Bene, buonasera a tutti. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. C'è il numero legale. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nomino sfruttatori. Consigliere Giuseppe Perrone, Dario Zanut, Emanuele Loperfido. Risultano assenti i consiglieri Loris Pasut e Gian Antonio Collaoni. Non ho comunicazioni di altre assenze. Franco Dalmas assente. Grazie. Giustificato. Bene, comunico che essenzio l'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale, il verbale dell'assoluto precedente, ha messo a disposizione i consiglieri. Qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Chiedo al signor Sindaco se ci sono comunicazioni. Non ci sono comunicazioni. Do comunicazione all'Assemblea delle decisioni prese all'ultima conferenza dei presidenti e i gruppi consigliari. Allora, l'ordine dei lavori è il seguente. Si inizia con le interrogazioni per mezz'ora. Dopodiché andremo ad esaminare e deliberare in merito alle delibere fino all'esaurimento delle stesse. Poi, se rimarrà del tempo, si esamineranno le emozioni, secondo l'ordine, del giorno fino alle ore 22.30. Vi comunico anche che la conferenza dei presidenti e i gruppi consigliari ha deliberato all'unanimità il seguente ordine per quanto riguarda i tempi di intervento relativamente alle emozioni. Per quanto riguarda le emozioni, la conferenza dei presidenti ha deliberato all'unanimità che il proponente dovrà contenere il proprio intervento nell'arco di 10 minuti. Gli interventi dovranno essere contenuti in 5 minuti, mentre per le dichiarazioni di voto queste dovranno essere all'interno dei 3 minuti. Vi ricordo che per quanto riguarda le emozioni non c'è il secondo intervento. Bene. Sono le 18.39. Esaminiamo le interrogazioni. Prego. Sì, perché non l'abbiamo mai fatta. Vi comunico che il gruppo consigliare Popolo delle Libertà ha modificato la propria denominazione in Popolo delle Libertà Fratelli d'Italia. Grazie, consigliere Loperfido. Bene. Interrogazioni. La prima del consigliere Ribetti che non c'è. Scusi, consigliere Loperfido, lei ha notizia del consigliere Ribetti? Ma comunque non c'è. Passiamo pertanto all'interrogazione numero 55 del gruppo consigliare Popolo delle Libertà dell'11 novembre 2013. Il consigliere Ribetti, posso leggere la sua interrogazione nel frattempo? Bene, grazie. Allora, interrogazione numero 54. Interrogazione sullo stato dei lavori per l'intitolazione di via, piazza e caduta in Assiria. Il sottoscritto Francesco Ribetti, consigliere del Comune di Pordenone, facente parte del gruppo consigliare del Popolo delle Libertà, premesso che dieci anni fa, esattamente 12 novembre 2003, avviene grave attentato in Assiria. Alle ore 10.40, ora locale, le 8.40 in Italia, un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò davanti alla base militare italiana, provocando l'esplosione del deposito munizioni della base e la morte di diverse persone tra militari e civili. Nell'esplosione rimase coinvolta anche una truppa televisiva, che si trovava sul luogo per girare un documentario sui soldati italiani in missione. L'attentato provocò 28 morti, 19 italiani e 9 iracheni. Gli italiani caduti sono i carabinieri, sottotenente Giovanni Cavallaro, sottotenente Enzo Fregosi, sottotenente Filippo Merlino, sottotenente Alfonso Trincone, maresciallo aiutante Massimiliano Bruno, medaglia d'oro di benemerito della cultura e dell'arte, maresciallo aiutante Alfio Ragazzi, medaglia d'oro di benemerito della cultura e dell'arte, maresciallo capo Daniele Ghione, brigadiere Giuseppe Coletta, brigadiere Ivan Ghitti, vicebrigadiere Domenico Intravaia, appuntato Orazio Maiorana, appuntato Andrea Filippa, militari dell'esercito, capitano Massimo Ficuciello, maresciallo capo Silvio Olla, caporal maggiore caposcelto Emanuele Ferraro, primo caporal maggiore Alessandro Carrisi, caporal maggiore Pietro Petrucci, i civili dottor Stefano Rolla, regista, signor Marco Beci, cooperatore internazionale, provocò inoltre circa 140 feriti. I militari caduti appartenevano alle brigate San Marco, Folgore, Trieste, Savoia, Trasimeno. Sono morti anche alcuni appartenenti alle brigate Sassari, che stavano scortando la truppa cinematografica di Stefano Rolla, e tre militari del sesto reggimento Trasporti e la brigata Logistica e Proiezione, che stavano scortando il cooperatore internazionale Marco Beci. La Camera Ardente per tutti gli italiani morti venne allestita nel Sacrario delle Bandiere del Vittoriano, dove fu oggetto di un lungo palegrinaggio di cittadini. I funerali di Stato si svolsero il 18 novembre 2003 nella Basilica San Paolo fuori le Mura, a Roma, ufficiati dal Cardinale Camillo Ruini, alla presenza delle più alte autorità dello Stato e con vasta e commossa partecipazione popolare. Le salme giunsero nella Basilica scortati da 40 corazzieri a cavallo. Quel giorno fu proclamato il lutto nazionale. Già in molte città italiane è stato reso omaggio in diversi modi, tramite l'erezione ai monumenti e o in titolazione ai pubbliche vie o piazze, alla memoria di questi nostri connazionali che sono giunti sino all'estremo sacrificio per riportare la pace in un Paese duramente colpito. Il 12 novembre 2007, nel corso dello scorso mandato amministrativo, lo scrivente, come primo firmatario e gli altri componenti al disciolto gruppo di alleanza nazionale, presentò apposita mozione tendente ad ottenere, come avvenne, l'intitolazione di una via, piazza, monumento e caduti in Assiria. Ad oggi, nonostante gli interessamenti e le richieste, non è stata intitolata alcuna via, piazza, monumento, parco, insomma, anche il che ai caduti di Assiria, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso. Da allora ogni anno lo scrivente interroga l'amministrazione per sapere a che stato sia l'iter per advenire l'intitolazione di una via, piazza, cittadina, alle vittime di tale tragico episodio. Tra qualche giorno cadrà il decimo anniversario da quei 13 eventi, ricordato anche dal sindaco di Pordenaro, dottor Claudio Pedrotti, nel corso, nell'ordieno discorso, in occasione della cerimonia per la festa delle Forze Armate. Tutto ciò premesso, sottoscritto il consigliere comunale e il gruppo del PDL interroga il sindaco e l'assessore competente per conoscere 1. Quante vie e piazze siano state intitolate dopo la presentazione a mozioni in epigrafe. 2. In quale posizione tra le prossime vie e piazze da intitolare si trovi l'intitolazione caduta in Assiria e quando presumibilmente si giungerà la citata intitolazione. 3. Per quali motivazioni, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, non si sia ancora divenuti l'intitolazione richiesta. 4. Se sia eventualmente intenzione dell'amministrazione provvedere ad effettuare un minuto di raccoglimento in memoria dei caduti in Assiria nel primo consiglio comunale successivo alla ricorrenza del triste avvenimento. Farcensco Ribetti, Gruppo Consigliare Popolo della Libertà. Assessore Mazzer, prego. Grazie, Presidente. Grazie, Consigliere Ribetti. Ci dà modo di rivedere un attimino quello che sono le procedure con le quali noi andiamo a intitolare strade, piazze a favore di avvenimenti, di persone, di personalità che meritano questo tipo di intitolazione. Io devo dirle una cosa, rispetto al 2007, diciamo che rispetto all'importanza e dell'intitolazione che lei con questa interrogazione e con la mozione precedentemente ha voluto rappresentare, credo che l'unico piazzale importante sia stato il piazzale Palatucci di fronte alla Questura, che è stato intitolato a Giovanni Palatucci perché c'erano delle richieste addirittura che arrivavano dall'arma di polizia a livello nazionale e quindi abbiamo inteso riconoscere questo merito, diciamo, a Giovanni Palatucci, intitolandoli proprio il piazzale antistante della Questura. Ho provato anche a cercare se nell'ambito delle nuove strade ci fosse qualcosa che potesse trovare, diciamo, il raffronto con l'importanza dell'avvenimento e della strage che andiamo a ricordare. Mi era venuta in mente un'unica strada che però, credo che sia un po' decentrata rispetto al centro, che è quella nuova strada dove adesso insiste anche l'entrata della SME sulla zona del centro commerciale Meduna. Ne abbiamo anche parlato sinceramente, ne ho parlato anche con una persona che io credo possa rappresentare meglio proprio la sensibilità anche di quelle persone che sono state impegnate all'estero in missioni militari, che è il consigliere Giuseppe Perrone, e lui c'è stato di persona e ovviamente sa meglio sicuramente di me dirci qual è il tipo di sensibilità alla quale dobbiamo andare incontro in una intitolazione di questo tipo. Di fatto poi le altre strutture che abbiamo in qualche maniera intitolato sono strutture che fanno riferimento a dei parchi o a delle zone tipo all'interno della biblioteca, alcuni settori della biblioteca, o ad impianti sportivi, ma non propriamente a strade e piazze che entrino nella intitolazione anche demografica stessa della città. Ci è venuto in mente, e credo che sia una buona idea, che tra poco dovrebbe essere funzionante non solo il piazzale antistante dove parcheggiano e sostano le corriere e scaricano tutti gli studenti delle scuole, in via Oberdan vicino alla stazione dei treni, quindi la nuova stazione delle corriere, tra poco inaugureremo anche la palazzina nuova che è in fase di completamento e abbiamo pensato che lì c'è un piazzale molto ampio, dove non ci sono residenti, quindi non serve che andiamo a modificare carte di identità, documenti, intestazioni di ditte che sono anche non particolarmente onerose, e che è un piazzale dove effettivamente molti studenti giovani scendono la mattina e potrebbero essere l'elemento di raccordo fra una cosa da ricordare e tanti giovani che riescono a vederla. Si è discusso anche del come possiamo contemperare il fatto che ricordiamo quella che è stata la strage, la prima strage, la più grande anche in assoluto, senza fare nessun torto a tutti quegli altri caduti che sono caduti nelle missioni di pace. E proprio perché noi andiamo a titolare un posto che non ha bisogno di rispettare quelle che sono le regole che vengono imposte dal codice della strada e dai ministeri relativamente alle denominazioni delle piazze che devono essere corte e non possono essere troppo lunghe, abbiamo pensato che lì possiamo anche aggiungere qualcosa in più, possiamo chiamarlo piazzale dedicato ai caduti di Nasseria, ma dedicarlo anche a tutti quegli altri uomini e donne, persone italiane che sono morti nelle missioni di pace. Quindi la proposta che noi vi facciamo, facciamo l'intero Consiglio Comunale, è quella di dedicare il piazzale antistante alla stazione delle Corriere, alla nuova biglietteria, chiamandolo piazzale caduti nella Siria e ai caduti nelle missioni di pace. Adesso sulla denominazione precisa poi ci confronteremo anche con gli uffici per trovare la denominazione più adatta che riesca a contemperare le sensibilità che sono state rappresentate in questa interrogazione, ma che sono anche sensibilità che appartengono anche ai parenti di quelli che sono caduti nelle altre missioni di pace che credo abbiano la stessa degnità tutti quanti. Noi vorremmo rappresentarli e ricordarli tutti quanti attraverso questa intitolazione. Se per lei interrogante, come per il resto del Consiglio Comunale, non ci sono problemi, noi intenderemo operare per questa strada. Prego, Consigliere Ribetti, può dichiarare se si ritiene soddisfatto. Grazie. Grazie Presidente, ringrazio l'Assessore. Mi dichiaro e sono anche contento di dichiararmi per una volta soddisfatto, magari a distanza di tempo, però finalmente ripetendo. Chi la dura la vince, si dice. Quindi ripetendola passo dopo passo, ma ci siamo arrivati, perché secondo me era qualcosa che si poteva far prima. E ringrazio anche l'amministrazione, questa amministrazione, che a differenza di quella precedente, quando feci quella mozione, fuori microfono qualcuno venne a chiedermi di ritirarla, perché non gli sembrava corretto fare quello che stavo facendo. Quindi sono contento che a distanza di tempo abbiamo trovato, direi anche un percorso di comune accordo, perché sì, come lei ha ricordato, mi sono confrontato col generale Perrona. Abbiamo condiviso questa scelta, siamo riusciti a smussare gli angoli, perché io ritengo in effetti che sia giusto mettere cauti in asseria, ricordare un episodio specifico, come è altrettanto giusto ricordare tutte le altre vittime, perché non sono vittime di serie B in asseria, perché il primo episodio, come vi ho detto nell'interrogazione, come lo stesso sindaco ha ricordato, è il primo episodio tragico, ce ne sono stati purtroppo altri. Quindi mi dichiaro soddisfatto, mi auguro che venga al più presto questo iter con gli uffici che venga completato e sono anche soddisfatto e concludo perché abbiamo trovato un posto, un luogo che appunto non è un luogo svilente anche dalla memoria, come purtroppo ce ne sono altri, mi sembra che ci sia un altro luogo, a me caro, ricordato che è abbandonato in un parco, per carità, era già stato intitolato, però ecco, un luogo importante, il centro della città, che soprattutto possa essere di ricordo per le generazioni, perché sono i giovani che scendono, ritengo che finalmente questa amministrazione faccia qualcosa che a me va bene. Grazie. Grazie, consigliere. Passiamo all'interrogazione numero 55. Gruppo consigliere del Popolo della Libertà, oggetto, contributo di 1.500 euro ad Assemblea Nazionale del Coordinamento dei Genitori Democratici, appreso che in data 31 ottobre, con delibera 223, la Giunta ha concesso un contributo di 1.500 euro risultante essere l'Assemblea straordinaria nazionale dei genitori democratici. Si riporta sotto il testo della delibera. Viste ancora la richiesta presentata dal Coordinamento dei Genitori Democratici di Pordenone, ONLUS, volta ad ottenere un contributo a sostegno della spesa connessa alla realizzazione di un percorso formativo per educatori e docenti che sarà realizzato dal 1 al 3 novembre 2013 presso l'ex Convento San Francesco, ritenuto in considerazione della coerenza dell'iniziativa alle linee programmatiche dell'ente, di accogliere a suddetta richiesta di concedere al Coordinamento dei Genitori Democratici di Pordenone, ONLUS, un contributo di 1.500 euro. Constatato che il contributo è stato concesso con riporta alla delibera di Giunta in considerazione della coerenza dell'iniziativa alle linee programmatiche dell'ente. All'interno della stessa delibera è stato concesso, visto l'alto livello culturale del progetto, di assegnare al liceo Leopardi-Maiorano un contributo di 1.500 euro. Il sottoscritto chiede all'amministrazione se la Giunta fosse al corrente che l'iniziativa finanziata fosse l'Assemblea Nazionale del Coordinamento dei Genitori Democratici, se la Giunta, avendo concesso il contributo solo un giorno prima dell'iniziativa, fosse comunque al corrente del parterre degli ospiti dell'iniziativa. Quali sono stati gli elementi che hanno portato la Giunta a concedere il contributo, affermando tra l'altro in considerazione della coerenza dell'iniziativa alle linee programmatiche dell'ente. Se il contributo dato di pari importi ad un'iniziativa definita di alto livello culturale, quale il certamen Lucrezianum, sia un contributo che possa definirsi consono alla situazione attuale di bilancio comunale. Firmato Emanuele Loperfido. Assessore Rubino, prego. Grazie, consigliere. Allora, risponderò un po' punto per punto alle varie domande che lei mi ha posto. Prima di tutto, la coerenza con le linee programmatiche. Abbiamo ritenuto l'iniziativa coerente con le linee programmatiche in quanto veniva proposta la formazione degli insegnanti in un ambito di concetto di continuità educativa, peraltro, che è una cosa che stiamo perseguendo e veniva proposto contemporaneamente un punto verde. Faccio un pochino la storia di come è nata questa richiesta. Nel marzo dell'anno passato è stato presentato dalla consigliera un progetto che si denominava MUMO, che aveva lo scopo di valorizzare la storia del territorio di Pordenone all'interno di un punto verde in aggiunta a quelli proposti dell'amministrazione. Ricordo che l'anno scorso noi abbiamo ridotto i punti verdi soltanto al mese di luglio, quindi questo andava ad implementare una nostra offerta. Il Comune in questo caso ha messo a disposizione le aule, mentre i genitori hanno contribuito, hanno pagato la retta dei bambini che hanno frequentato. coinvolti sono stati il Comune, gli istituti comprensivi, il liceo psicopedagogico e le associazioni sportive. L'attività comprendeva una seconda parte di tipo formativo, una formazione degli insegnanti sulla base dell'esperienza fatta all'interno del punto verde. I tempi del punto verde sono stati dal 18 al 28 di giugno e la formazione doveva aver luogo appunto nel mese di novembre. Il Comune per quanto riguarda la formazione, cioè la parte di novembre, ha contribuito soltanto per i giorni due e tre, cioè soltanto per la formazione degli insegnanti, non assolutamente per l'assemblea dei genitori democratici. Dirò dopo del certamen lucreziano, l'aggiunta era al corrente, era al corrente che si sarebbe tenuta la formazione e il fatto della coincidenza del convegno dei genitori democratici è stato giustificato con il fatto che questa associazione di fatto fa formazione all'interno dei suoi incontri. Ricordo che il coordinamento dei genitori democratici è un'associazione onlus che persegue finalità educative ed è accreditata presso il MIUR. Il contributo, come detto, non è stato concesso il giorno prima, ma essendo un contributo noi siamo ancora in attesa di pezze giustificative che consentono di valutare esattamente la quantità del contributo stesso. Qualora risultasse che l'attività svolta nell'ambito della prima parte, cioè del punto verde, e nell'ambito della seconda parte non avesse necessità di un contributo fino alla concorrenza di 1.500 euro, questo contributo non verrà dato o verrà dato soltanto nella misura in cui questa differenza possa essere coperta. Spero di aver risposto. Per quanto riguarda il certame lucreziano, naturalmente non possiamo fare pubblicità comparativa. Tutti i tipi di formazione che avvengono all'interno della scuola hanno una loro validità e quindi riteniamo che anche questa andasse valutata all'interno di una scuola media e non paragonabile, quindi con un'attività liceale. Grazie, Assessore. Consiglio Perfido, prego, può dichiarare se si ritiene soddisfatto. Grazie, Presidente. Grazie, Assessore. Al momento devo cercare di capire bene quello che mi è stato detto per esprimere se sono soddisfatto o meno. Nel senso che non ho capito molto se il contributo è stato dato, non è stato dato. Quindi, se non è stato dato, forse è il caso che da un punto di vista di opportunità è meglio che il Comune non lo dia proprio questo contributo. Perché sicuramente il coordinamento dei genitori democratici è un'associazione onlus della quale si può sicuramente essere soddisfatti in modo parziale, nel senso che essendo di parte, chi è di parte può essere soddisfatto di questo tipo di attività. Chi è dall'altra parte magari dice va bene che la facciano, ma non di certo che prendano dei soldi pubblici, anche perché, insomma, è un'associazione onlus, però sicuramente rientra anche tra coloro i quali possono beneficiare di un 5 per mille per la propria attività, quindi un contributo volontario da parte di chi apprezza questo tipo di attività da parte di questo tipo di associazione. Non è il caso che sia l'amministrazione comunale di Pordenone, sorretta dalla maggioranza di centro-sinistra, nei quali siede anche, stasera vedo che è assente, la responsabile della segreteria nazionale dei genitori democratici, onlus, da un punto di vista dell'opportunità politica non è il caso che questa amministrazione dia il contributo. Quindi se lei, assessore, dice che il contributo ancora non è stato dato, bene, allora è il caso che non venga dato. E tutto questo non perché l'attività non piace, semplicemente perché è dimostrato che è un'attività di un'associazione che comunque ha sempre dimostrato di essere di parte. Bastava andare sul sito pochi giorni fa, nel senso che ora è stato rifatto, è stato modernato il sito, bastava andare sul sito di qualche giorno fa in cui le uniche iniziative pubblicizzate erano quelle della CGL. Come d'altronde, gli unici invitati all'iniziativa di questa Assemblea nazionale dei genitori democratici erano prettamente CGL, la Presidente della Regione e tutti i deputati del Partito Democratico. Ecco allora che, ripeto, benvenga qualsiasi attività sul territorio, però non possono essere dati finanziamenti pubblici, soprattutto in questo momento quando il Sindaco pochi giorni fa diceva non ci sono soldi, non ci sono soldi per le luminarie, non ci sono soldi per questo, bisogna fare attenzione. Nello stesso momento in cui viene dato un contributo al certame Lucreziano di 1.500 euro per l'altissimo valore che questo ha e quindi meriterebbe anche molto di più, viene dato lo stesso importo ad un'iniziativa di parte. Ecco allora, Assessore, non sono soddisfatto perché è stata fatta la delibera di giunta che prevedeva il finanziamento di 1.500 euro. Sarò molto soddisfatto nel momento in cui, indipendentemente da ricevere o meno le pezze giustificative, questa amministrazione deciderà di non dare quei 1.500 euro ad un'iniziativa magari valida, ma sicuramente di parte e quindi questi 1.500 euro è giusto che vadano ad altri tipi di iniziative che in questo momento ce ne ha sicuramente più bisogno. Grazie. Grazie, Consigliere. Passiamo ora all'interrogazione numero 56. Interrogazione, sulla nuova pista ciclabile creata su via Damiani. Il sottoscritto Francesco Ribetti, Consigliere del Comune di Pordenone, facente parte del Gruppo Consigliere del Popolo e della Libertà, premesso che da qualche giorno l'amministrazione ha creato una pista ciclabile lungo il lato destro di via Damiani, con percorrenza dal centro verso via Oberdan. La pista ciclabile prevede il transito a doppio senso di marcia per le biciclette ed anche per i pedoni, stando alla segnaletica orizzontale disegnata in terra. Di tal che ben potrebbe accadere che, nel medesimo istante, lungo lo stesso tratto di pista ciclabile pedonale, transitano una bicicletta ed un pedone in direzione centro, foto 1, ed una bicicletta ed un pedone in direzione opposta, foto 2. Ve, sull'altro lato della strada, apposito marciapiedi per i pedoni, foto 3. Tutto ciò premesso, sottoscritto il Consigliere Comunale del Gruppo del PDL, interroga il Sindaco e l'Assessore competente per conoscere, 1, le motivazioni per le quali è stata prevista la possibilità di transito pedonale lungo la ciclabile nonostante vi sia il marciapiedi sul lato opposto, 2, se la ciclabile, disegnata a doppio senso con transito anche di pedoni, rispetti le misure previste dal codice della strada o comunque dalla legge, 3, se non ritiene pericoloso il contemporaneo transito di pedoni e bicicletti in ambedue i sensi di marcia, contemporaneamente. Francesco Ribetti, Gruppo Consigliere Popolo della Libertà. Assessore Zille, prego. Voglio dire che il percorso ciclopedonale che è stato realizzato in via Damiani è stato fatto per mettere in sicurezza gli utenti deboli della strada, in particolar modo i ciclisti, viste poi la naturale aspirazione di questa strada ad essere utilizzata per il transito delle biciclette in entrambi i sensi di marcia, nonostante che ovviamente la strada attualmente è regolamentata a senso unico e quindi proprio per queste motivazioni si è cercato di dare una risposta a questo tipo di utenza che attualmente nel muoversi non si sarebbe mosso in sicurezza proprio perché abbiamo il senso unico di percorrenza. Sono stati fatti dei rilievi, ancora lo scorso giugno, che ha registrato mediamente un transito di biciclette pari a circa 220-230 biciclette sull'arco di sei ore quando sono state più volte monitorato quel tratto di strada, con almeno 100 passaggi in contromano, quindi rispetto all'attuale. e quindi da lì si è deciso di intervenire per realizzare, anzi la questione l'ha seguita l'assessore Conficoni che ovviamente mi ha preceduto in questo studio. Devo dire che sulla domanda che lei mi ha posto per quanto riguarda la promiscuità, in effetti è stato oggetto da parte mia, mi sono confrontato con il nostro mobility manager, proprio perché condivido quel tipo di impostazione lì e quindi vede che... No, condivido la sua domanda, ma mi sono confrontato sulle motivazioni. In effetti, non solo perché lui mi ha dato delle motivazioni, ma perché personalmente sono andato lì sul posto, abbiamo ragionato e ho visto, di fatto ci sono alcuni problemi specifici. Essendo la strada a senso unico, sul lato destro abbiamo due punti di raccolta dei rifiuti urbani. Abbiamo anche la fermata dell'autobus e poi per quanto riguarda il marciapiede, deputato pedonale dall'altra parte, al civico 21 si ferma perché poi abbiamo una fila di parcheggi e quindi non connette con via Oberdan, mentre il marciapiede su quell'ultimo tratto sta proprio in asse sulla parte del... Ecco, valutando poi questo e valutando quella che è la mobilità tradizionale della gente, abbiamo ritenuto per logicità, ma anche per mettere in sicurezza i pedoni che comunque devono transitare per andare a prendere l'autobus, per portare... mi ha convinto che non si poteva fare diversamente, come sarebbe stato giusto e come giustamente lei, ma che era necessario forza maggiore di dover intervenire sulla possibilità di dare la promiscuità sia al pedone sia al ciclista. Per quanto riguarda invece gli aspetti tecnici che lei mi chiedeva se sono a norma del codice, il codice della strada prevede che le piste ciclabili, in quel caso lì, la sezione media è di 2,50 metri e ripeto, nel caso della promiscuità, e quindi nei due sensi di marcia, è previsto che per quanto riguarda solo le biciclette non deve scendere al di sotto di due metri, ma avendo, ripeto, una pista di 2,50 metri può consistere sia il pedone che il ciclista. Sì, ecco, in alcuni tratti ci sono alcuni punti che per ragioni dove ci sono le, come si chiama, sottimessi gli archetti per proteggere dove ci sono i carrai quando escono, ma per proteggere soprattutto le biciclette che possono arrivare. Ecco, quindi in questo modo abbiamo sistemato avendo questo forte vincolo, come le dicevo, relativo al senso unico e avendo quei servizi che stanno sulla destra che ci condizionano. Ecco, questa è la motivazione. Grazie, Sessore. Prego, Consigliere Ribetti. Grazie, Presidente. Beh, torno subito a fare il mio ruolo d'opposizione anche di cattivo verso questa amministrazione perché veramente io non so se, per carità, prendo atto la buona volontà dell'Assessore Zille e di quello che con la faccia, con lo sguardo, credo di aver percepito della serie, mi sono trovato sta patata bollente. No, no, questo è quello che penso io da opposizione e quindi me la devo giustire in questa maniera. Ma sai l'impressione che ha un piccolo e insignificante consigliere di minoranza? Che questo sia una delle manie di grandezza di qualcuno che l'ha preceduta per poter aggiungere metri, con tutto il bene che possa vogliare Nicola, per poter aggiungere metri alla sua record di piste ciclabili, di città con la pista ciclabile più lunga, che avrebbe fatto tanto piacere alla consigliera Giacomini, che non c'è più, il biciplan, si diceva sempre, dell'assessore Conficconi. Perché, vede, io posso capire tutto quello che lei vuole. La sua difesa è anche, da un certo punto di vista, apprezzabile, la sua difesa amministrazione, però non mi può venire a dire che quella pista ciclabile è fatta bene. Se lei stesso mi viene a dire che lì bisogna consentire, perché ci sono 220, 600, sempre, non so, in sei ore quante biciclette che passano, sui due sensi di marcia. E in più ci mettiamo anche i pedoni che ci vanno in mezzo, tutto perché? Perché è stato sbagliato farla lì a pista ciclabile, perché sulla destra, l'ha ricordato lei, ci sono la fermata dell'autobus e i bidoni dell'immondizia. E quindi è chiaro che non si può viettare al cittadino di andare a buttare l'immondizia, come è chiaro che non gli si può viettare di andare a prendere l'autobus. Quindi, logica, avrebbe voluto cosa? Che la pista ciclabile, i 50 metri in più per far vincere il record dell'assessore Conficconi, andavano fatte da un'altra parte. Allora, io ripeto quello che ho già detto molte volte quando si parla dell'apertura, dell'apertura del corso sui due sensi di marcia con le biciclette, soprattutto il sabato e il mercoledì in giornate con mercato, con ragazzi che escono dalla scuola. A mio modo di vedere è estremamente pericoloso. E' apprezzabile che ci sia questa voglia, questa smania dell'amministrazione di facilitare, di invogliare la gente ad andare in bicicletta. Fatelo, ma chiudeteli il mercoledì e il sabato. Con altrettanta franchezza vi dico, cari signori, quella pista ciclabile è una porcata. Perché non si può consentire, soprattutto con un traffico così sostenuto, come mi ha ricordato lei, che questi dati non li avevo, però non si può consentire che pedoni, due biciclette, e se succede qualcosa cosa andiamo a dire? Se ci fanno una causa cosa riscondiamo? Che è due metri e cinquanta, il codice della strada, quindi è consentito? Io credo che una cosa di queste andrebbe a incrementare un altro record di questa amministrazione, questa volta è più suo, Assessore Zille, è quello di perdere le cause e quindi spese regali. Quindi, secondo me, fatene l'uso che credete, mettete mano a questa schifezza che avete fatto, prevedete, o levate i pedoni da lì, almeno levate il disegno del pedone, perché a mio modo di vedere non ci sta. E mi sembra che anche qualcuno, ha pubblicato su internet, mi fa vedere il collega Lope, è affido detto Lope, pago volentieri e tasse ad un comune che mi ha fatto una così bella pista ciclabile. Ecco, questo si divertono anche a prendervi in giro. Quindi, assolutamente insoddisfatto per la scelta dell'amministrazione, che sia dell'Assessore Conficconi, che sia del Sindaco, che sia di chi non mi interessa, mi soddisfa solo la buona volontà messa dall'Assessore Zille di dare una risposta e nel cercare di dare una motivazione a qualcosa che una motivazione non ha. Quindi, mi raccomando, fate quello che potete per mettere in sicurezza i cittadini. Grazie. Grazie, consigliere. Bene, abbiamo esaurito il tempo dedicato alle interrogazioni. Passiamo alle deliberazioni. Proposte di deliberazione. Proposte di deliberazione numero 1 del 2014. Associazione Aste tra i comuni di Pordenone e di Roveredo in Piano. La parola all'Assessore Mazzer. Prego. Signor Assessore. Grazie, Presidente. Questa è una delibera che, portata in Consiglio Comunale in altri tempi, sicuramente sarebbe stata una delibera che non avrebbe acceso molte discussioni. noi abbiamo una convenzione che abbiamo fatto col Comune di Roveredo a seguito di una legge regionale che, tra l'altro, finanziava questo tipo di associazione Aster. Quindi avevamo una convenienza a costituire questa organizzazione Aster, proprio perché c'erano anche dei contributi messi a disposizione della Regione. Le convenzioni avevano una valenza di cinque anni. Oggi, ovviamente, l'incentivo a finanziarle da parte della Regione è venuto a meno, con una precedente legislatura ancora. Noi abbiamo ancora l'opportunità di conservare qualche finanziamento parziale su queste convenzioni Aster, soprattutto per quelle convenzioni di nuovi servizi che non hanno cinque anni di anzianità, su quelle c'è concesso ancora un finanziamento, però sulle altre, ovviamente, non possiamo più contare su questo tipo di contribuzione. C'è anche un altro aspetto da tenere in considerazione. Il Comune di Roveredo in Piano, la prossima primavera, avrà le elezioni amministrative, e, di conseguenza, ha una difficoltà oggettiva a scegliere una modalità di strutturazione di propri servizi che non hanno un valore di un anno, ma continueranno a valere anche nel tempo. E quindi abbiamo avuto delle difficoltà a ottenere un rinnovo più ampio. Per questo, l'amministrazione di Roveredo ci ha proposto una soluzione che non sia di cinque anni, ma abbia un tempo inferiore. Si dice fino a giugno del 2015. Questo significa che ci sarà una nuova amministrazione che in un anno avrà il tempo di valutare se queste convenzioni sono convenzioni comunque di aiuto a quella comunità, all'organizzazione del lavoro in quel municipio, e, di conseguenza, intenderanno ulteriormente prorogarle. Io ve le elenco brevemente di quali convenzioni si tratta. Si tratta del servizio della Polizia Municipale, del controllo di gestione e controllo delle società partecipate, del servizio di automazione delle funzioni di protocollo e gestione di servizi informatici, del servizio di gestione delle risorse umane, servizio del personale, in sostanza, dello sportello unico, che nella delibera si parla soltanto di attività commerciali, ma è relativa non soltanto all'attività commerciali, ma anche a tutte quelle pratiche che riguardano l'edilizia privata, anche se nel titolo non compare, però abbiamo questo tipo di contenitore dello sportello unico che si occupa anche del servizio, quindi delle pratiche dell'edilizia privata, servizio di gestione della programmazione comunitaria, perché ovviamente è un servizio che abbiamo istituito nuovo con il contributo dell'assessore Flavio Rubino e che quindi anche il comune di Roveredo si è dimostrato interessato ad avere questo tipo di opportunità, di partecipare alla ricerca delle opportunità di finanziamenti CE. E infine il servizio di attuazione della trasparenza, che è relativo al decreto 33 del 2013, ed è il servizio di gestione dei controlli interni e di regolarità amministrativa. Questo è un servizio estremamente nuovo, la nostra organizzazione è un'organizzazione più ampia di quella del comune di Roveredo, quindi più pronta ad attuare quelli che sono servizi innovative, che richiedono un approfondimento, che richiedono uno studio preliminare, anche in questo caso intendiamo mettere in rete, quindi in collaborazione sinergica con il comune di Roveredo, un'attività che noi abbiamo già improntato per il comune di Pordenone e credo che tra l'altro dal punto di vista proprio dell'applicazione di queste nuove disposizioni, siamo quelli che in maniera più trasparente riescono a pubblicare più dati sul nostro sito. Il problema è utilizzarli bene i dati, però l'amministrazione trasparente è uno dei nostri obiettivi. Vi dicevo che questa sarebbe una proroga di una convenzione che in altri tempi non avrebbe sicuramente suscitato tante discussioni. È chiaro che oggi ne parliamo in un momento particolare dal punto di vista socio-economico, quindi di ricerca di sinergie con gli altri comuni, e ne parliamo anche in un momento di dibattito mediatico che riguarda il comune di centomila abitanti, cioè la capacità che ha il comune di Pordenone e con gli altri comuni di mettere insieme, di fare alcune sinergie nell'erogazione di servizi, perché riteniamo che una comunità di centomila abitanti possa, che tra l'altro gravita molto vicino, che quindi ha la possibilità di parlarsi in maniera ravvicinata, possa determinare degli equilibri di risparmi di spesa importanti per reinvestire questi risparmi magari in qualità migliore dei propri servizi. Vi ricordo che noi abbiamo altri servizi convenzionati, a parte quelli con il comune di Roveredo, in particolare ne abbiamo, per quel che riguarda, beh, a parte i servizi dell'ambito, ovviamente, che conoscete tutti, ma abbiamo anche servizi dello sportello unico che si estendono al comune di Fontana Fredda, e abbiamo un controllo di gestione che attualmente ha convenzionato 27 enti, vi ricordo i più importanti, qua attorno, a parte Roveredo, Maniago, Porcia, Prata, Sacile, Bruniera, Fiume Veneto, Montereale, Aviano, Cordenons, per andare nell'Udinese, con Maiano, Tricesimo, Tarcento, La Tisana, Reana del Royale, arriviamo fino al comune di Portoguaro, al comune di Spinea, Dolo, Sandonà, e arriviamo anche al comune di Fabriano, in provincia di Ancone, oltre che l'autorità portuale di Venezia. Quello che vi proponiamo con questa deliberazione, in ogni caso, è semplicemente il prorogare questa convenzione che noi abbiamo già in atto con il comune di Roveredo, di prorogarla, prefezionandola in quei servizi nuovi che il comune di Roveredo stesso ci ha chiesto di inserire, e quindi di continuare questa esperienza di Aster, che non sarà più Aster, perché di fatto non ci saranno più contribuzioni, ma dovremmo fare non più con gli incentivi della Regione, ma semplicemente con quanto riusciamo a realizzare di risparmio mettendo insieme i servizi. Io credo che, sempre di più, se noi riusciamo a dimostrare che facendo questo tipo di aggregazioni otteniamo dei vantaggi per entrambe le amministrazioni, in maniera graduata e proporzionale, credo che l'esperienza lavorativa, il nostro know-how di conoscenza e di anche numero importante di persone che fanno in servizio possa essere messo al servizio del territorio più ampio, innanzitutto di quello che fa parte dell'ambito, ma non solo. Grazie. Grazie, Sessore. Ci sono richiesti di chiarimenti? Prego, Consigliere Roperfi. Grazie, Presidente. Grazie, Assessore. Dunque, d'accordissimo con quello che dice. Se c'è la possibilità di risparmiare, va bene. E quindi, se c'è la possibilità di risparmiare, di sicuro non saremo noi a votare contro questa delibera. Siamo tutte persone per bene, però sarebbe bene vedere i dati sui quali discutere e poter dire sì, c'è effettivamente un risparmio per quanto riguarda le attività fatte in regime di Aster. Detto questo, l'anno scorso, se non erro, la delibera 54 del 2012, era stato rinnovato l'Aster con il Comune di Roveredo fino al 2018 per quanto riguarda lo sportello unico per le attività produttive. L'anno scorso, vedo il comunicato fatto il 23 marzo 2012, ha approvato la Convenzione per la gestione associata tra i Comuni di Ropordenone e Roveredo in Piano. È stata rinnovata per sei anni, quindi 2012-2018, per quanto riguarda la gestione dello sportello unico per le attività produttive. Qua adesso viene detto che viene fatta fino al 2015. È da considerare annullata oppure quella del 2012 rimane valida fino al 2018? E in questo caso, se rimane valida, perché questa fino al 2018 e il resto fino al 2015? Grazie. Risponderei? Prego. Prima raccogliamo tutte le domande. Altre richieste e chiarimenti? Prego, consigliere Pedicini. Sì, grazie. In realtà mi ha preceduto il consigliere Loperfido perché effettivamente, Assessore, mi sarei aspettato al momento del rinnovo di una convenzione che è già in atto da alcuni anni presentare un bilancio di quello che è stato fino ad oggi. E se i risparmi ci sono stati in questi anni, andavano presentati. Ha detto che in questi anni abbiamo avuto questo risparmio e veniva oggi detto, e a fronte del risparmio che abbiamo avuto, chiediamo di continuare in questa esperienza. questo dato lei non ce l'ha dato, ma ce lo dà dopo? Ce lo dia prima, così abbiamo un motivo per intervenire. Però mi farebbe piacere aggiungere, a quanto è già stato detto dal collega, vorrei capire, il servizio di controllo di gestione, quello lo capisco, il controllo delle società partecipate. Cosa fate con Roveredo per controllare le società partecipate? Io posso immaginare, avete società insieme al comune di Roveredo? Perché qui scrivete che fate. No, partecipate insieme ad alcune... Ecco, però anche su questo un chiarimento, qualcosina di più, perché dire che il controllo delle società partecipate, lo fate con idrogeno, sì, a parte le quote che sono talmente distanti tra uno e l'altro, però vorrei capire un pochettino qualcosina di più. Poi, un'altra cosa che inserite nuova, sono la programmazione comunitaria. Ora, l'assessore Rubino lo sa benissimo, l'Europa non dialoga direttamente con i comuni, ma dialoga con le regioni. Ci sono i bandi, i bandi vengono presentati, poi è compito delle regioni attuare questi bandi dove partecipano i comuni, le comunità locali, eccetera. Quindi non c'è un dialogo diretto, comune, Europa. Tant'è vero che la regione Friuli Venezia Giulia, ma lei le sa tutte queste cose, la regione Friuli Venezia Giulia ha un ufficio a Bruxelles con dei funzionari della regione Friuli Venezia Giulia che danno assistenza, proprio seguono i vari progetti, eccetera, della comunità europea. Allora, voglio capire anche su questo, visto che decidete come Aster con Groveret, visto che si è dato che il vostro dialogo dovrebbe essere principalmente tramite la regione Friuli Venezia Giulia, tramite gli uffici a Bruxelles della regione Friuli Venezia Giulia, come intendete sviluppare questa attività col Comune di Roveredo e quale aiuto vi può dare il Comune di Roveredo su un argomento come questo o che voi potete dare al Comune di Roveredo se non quello poi nel momento di attuazione dei bandi fare qualcosa insieme. Ecco, grazie, ma ci tenevo in modo particolare. I risparmi e più queste due cose qui. Grazie. Altre richieste e chiarimenti? Bene. Prego, Assessore. Ecco sulla convenzione. La convenzione, quella stipulata l'anno scorso, è una convenzione a tre, con Roveredo e Fontana Fredda. E non è un Aster, ma è una convenzione di collaborazione fra uffici. è una convenzione per la collaborazione di funzioni, per la gestione unitaria di funzioni. Non è l'Aster. L'Aster presuppone una struttura diversa. Il ragionamento era l'Aster e entra su questo, ma comunque la convenzione fra i tre Comuni rimane. Allora, si diceva del risparmio che abbiamo avuto. Ah, rispondo prima al tema del controllo delle partecipate. Cosa significa? Voi sapete che per dare degli incarichi in house oggi bisogna certificare una serie di dati, altrimenti gli incarichi in house non li possiamo dare. Per fare questo tipo di attività, quindi di certificazione, noi abbiamo un ufficio che è in grado di... Io adesso, dal punto di vista tecnico, non ve lo chiarisco, però abbiamo bisogno di dare comunque delle dichiarazioni, delle certificazioni, che il nostro ufficio è in grado di fare, dal punto di vista... Segretario? Lo vuole rispondere lei? Più tecnico? Assieme al Comune di Roveredo, il controllo analogo sull'attività dell'ente. Quindi, anziché, loro che si attrezzino di avere qualcuno, così lo facciamo direttamente assieme. Anche per quel che riguarda i contributi europei, europei, la gran parte dei contributi europei arrivano attraverso le regioni, però ci sono dei contributi comunitari, dei progetti particolari, guarda l'assessore Rubino, che possono essere fatti quando ci sono dei partner italiani ed europei che si mettono assieme. Per bandi particolari c'è questa opportunità, c'è questa possibilità. Ovviamente quelli regionali sono più, diciamo, chiari per quel che riguarda la contribuzione, la possibilità di accedervi alle domande di contributo. Gli altri bisogna andare un po' a cercarseli e bisogna anche cercarsi, oltretutto, non solo il bando, ma anche le opzioni, le opportunità di partnership. Su questo, visto che lo facciamo per noi, credo che possiamo farlo anche per un Comune qua vicino che fa parte del nostro ambito. Ovviamente non è che gli chiediamo una contribuzione economica eccessiva per fare questo tipo di attività. Si diceva dei risparmi. Noi percepiamo dal Comune di Roveredo 254 mila euro di entrata. Erano accompagnati nel 2013 da 129 mila euro di trasferimenti che derivavano dai contributi della Regione. Ovviamente, per fare questo, in qualche parte, mettiamo a disposizione anche personale e qualche volta siamo costretti ad attingere, ad assumere personale. Ad esempio, per quel che riguarda i vigili, noi siamo riusciti ad attivare delle pattuglie e un servizio che fosse anche con turni serali fino a tardi, proprio ricorrendo a queste modalità, anche incrementando la dotazione complessiva dei vigili. Allora, in questo caso, è migliorato il servizio, abbiamo le pattuglie che intervengono a Pordenone e intervengono a Roveredo e, di fatto, rientrano nei costi, diciamo, del contributo Aster o nei costi che ci vengono derivati dal Comune di Roveredo. Per esempio, sull'ufficio del personale, che abbiamo un pagamento di circa 50 mila euro, noi non abbiamo incrementato il personale, quindi quelli sono tutte entrate a favore dell'amministrazione comunale di Pordenone, che consente al Comune di Roveredo di spendere meno, perché almeno due persone se non le dovrebbe attivare, quindi, ha un risparmio Roveredo che spende solo 50 mila euro, ha un vantaggio Pordenone perché con lo stesso personale riesce a fare non solo le attività, diciamo, di redazione delle retribuzioni, ma anche tutta l'attività giuridico-amministrativa che riguarda il personale. Ecco, con i comuni di Roveredo nel senso che anche Roveredo spendendo 50 mila non è che spende tutti i soldi e tutte le risorse che gli sarebbero servite se avesse dovuto farlo in proprio questo servizio. Il segretario se vuole aggiungere qualcosa dal punto di vista economico mi pare di essere... Sì, se no... Di fatto nel 2013 abbiamo un ribaltamento dei costi, così chiamato, rispetto agli altri comuni dell'Aster però anche a quelli dell'ambito che il meccanismo è lo stesso senza alcun incremento di personale proprio e quindi attraverso una maggiore produttività un aumento dei carichi di lavoro rispetto al passato che sono oltre 200 150 all'ambito 50 l'Aster più almeno 40 per i vigili e fanno sono circa 300 350 mila euro che il comune di Pordenone rispetto agli anni passati ha guadagnato dalle forme associative con risparmi propri vicino a questo poi c'è stato trasferimento del regionale solo l'anno scorso per 129 mila euro di premio alle associazioni e quindi sono quasi 500 mila euro l'anno che queste forme associative hanno portato alle casse comuni di Pordenone bene grazie nessun'altra richiesta di chiarimento bene possiamo dichiaro pertanto aperta la discussione vede scritto il consigliere franchin prego consigliere franchin grazie signor presidente signor sindaco noi siamo molto interessati al contenuto che va oltre secondo me il contenuto amministrativo della delibera come giustamente diceva l'assessore siamo molto interessati a quello che in questo momento questa cosa rappresenta la rappresenta secondo noi allo stesso modo delle altre iniziative che il comune ha già portato avanti da anni e che si possono in qualche modo rappresentare con l'atto e l'ambito perché tutto ciò che fa economia di scala ci vede interessati e quindi ci vede molto interessati a far sì che quello che è politica sociale sicurezza urbanistica ambiente patrimonio artigianico culturale regolamentazione degli standard dei servizi istruzione mobilità venga gestito in un ambito extra oltre comunale quindi il discorso che l'assessore faceva sui centomila abitanti cioè sul grande comune che in qualche modo potrebbe rappresentare la città ci vede molto interessati ci vede interessati perché appunto riteniamo che la gestione locale non sia più sufficiente e già dicevamo questa delibera va in questa direzione allora io volevo ricordare che la Costituzione all'articolo 133 recita che la Regione può istituire nuovi comuni e naturalmente sentite le popolazioni interessate quindi pone due principi il principio della partecipazione e il principio che un ente superiore individua necessità di un nuovo comune allora in questo territorio chiunque viva il problema da più di forse sono anche tre più vecchi tra l'altro io ho visto i passaggi no? ognuno di noi sa che andare a San Quirino negli anni 60 era andare in un altro posto andare a Cordenone non si era andare in una località dove si parlava un'altra lingua andare a Porcia era in un posto che viveva intorno a un'area storica e che era diverso da Cordenone solo che i fenomeni sociali ed economici fondamentalmente hanno cambiato la struttura e hanno cambiato la struttura al punto che gli abitanti di Cordenone si sono trasferiti perché economicamente più conveniente nelle aree vicine ma di fatto costituendo un unico territorio sociale ed economico e quello che risulta strano in questo momento è che noi siamo tutti consapevoli che la politica riesce a difficilmente intercettare gli avanzamenti della società cioè i passi avanti la società secondo me è già organizzata per prevedere un territorio unico l'ho letto anche oggi dall'intervento che ha fatto il nostro presidente la politica deve solo interpretare non deve fare sforzi di ragionamento e di creatività deve interpretare i cambiamenti che sono già in atto e i cambiamenti in questa area sono già avvenuti quindi i 100.000 abitanti non sono più scelte strategiche o così in qualche modo di grande preveggenza sono interpretazione dell'esistente e quindi su questa cosa noi ci vediamo fortemente interessati affinché questo processo vada avanti perché una volta tanto la politica deve interpretare quello che gli cittadini hanno già fatto come scelta personale come scelta sociale collettiva ma a questo punto chi è che deve fare la prima mossa cioè la regione che ha il compito istituzionale di eventualmente riconoscere dei nuovi comuni oppure i cittadini perché i consigli comunali con più di 50.000 abitanti possono chiedere di fare un nuovo comune allora le associazioni di comuni in Italia sono tantissime tutti noi abbiamo visto internet le regioni come l'Emilia Romagna ma il Veneto stesso insomma hanno istituito ma sono tutti comuni piccoli cioè Pordenone può effettivamente aprire una strada nuova un laboratorio in qualche modo anche non so come chiamarlo ma è un laboratorio di convivenza civile e sociale e di efficienza ed efficacia della macchina amministrativa allora io ho letto l'articolo dell'Uni Industria ieri sul giornale perché questa cosa ha trovato di interesse anche di approfondimento di fatto secondo me il passaggio importante è questo che si può in questa criticità effettivamente fornire un'opportunità alla città per diventare un laboratorio di cose che in Italia sono ancora di difficile realizzazione io penso che attraverso questa riforma che secondo me è nelle cose è difficile dire di no il comune di Pordenone si pone in un atteggiamento innovativo e di laboratorio la stessa cosa se ci sarà la possibilità la dirò sul cro perché ormai è da anni che aspettiamo questa mozione sul cro non si farà neanche stasera ma insomma va bene però è la stessa cosa questo comune qua ha le capacità per porsi avanguardia avanguardia nella sperimentazione cogliamo questa occasione grazie grazie consigliere non vedo altri iscritti a parlare dichiaro pertanto chiuso il primo intervento passiamo al secondo intervento nessun iscritto dichiaro chiusa la discussione passiamo pertanto alla dichiarazione di voto dichiarazione di voto prego consigliere Tomasello venire anche il mio intervento sarà molto breve ormai non riguarda il merito della delibera ormai l'abbiamo sviscerata in sede di commissione e come ha detto prima anche il consigliere Franchin forse la delibera odierna ci dà l'opportunità di affrontare un tema attuale in città la cosiddetta il tema appunto della città dei centomila abitanti e appunto vorrei fare delle considerazioni anche di natura qui mie personali relativamente a quale tipo di aggregazione sia possibile per questi cinque comuni che sono stati i cinque comuni di Pordenone i comuni di Cordenons se il microfono forse di Porcia Roverello Piano e Sanquirino il dibattito appunto è iniziato in questi giorni siamo ancora in una fase si può dire embrionale adesso stiamo ancora discutendo su qualcosa che ha bozzato e di questo vorrei ringraziare appunto anche gli amici del fiume che si può dire che con la loro iniziativa hanno dato inizio hanno aperto il confronto che spero poi venga allargato all'intero al resto della maggioranza e anche all'intero all'intero consiglio perché è una discussione questa molto importante molto importante ritengo appunto di fare queste mie riflessioni personali perché il fatto che questi cinque comuni almeno mi è sembrato almeno quella sera abbiano l'intenzione di fare qualcosa insieme per me ma anche penso anche per l'intero mio gruppo è positivo questo la discussione però secondo me si è limitata in questi giorni a parlare a mio parere soltanto sì di gestione associata dei servizi però sempre con riferimento a vecchi concetti al vecchio concetto del conurbamento al vecchio concetto dell'unione dei comuni che ormai secondo me sono concetti superati che secondo me sono concetti ben diversi da quello che potrebbe essere una vera e propria fusione come quella che se non ho capito male ha anche detto il consigliere franchini come quello che ha esplicato stamattina esplicitato stamattina l'articolo anche il nostro il presidente del consiglio l'avvocato Bernardi però perché secondo me la fusione è una cosa ben diversa dall'unione quindi mi va bene il dialogo sull'aggregazione sulla forma associata dei servizi però noi non dobbiamo fermarci solo a questo cioè non ci si può rimettere a gestire assieme soltanto qualche servizio se si vuole fare un soggetto unico un soggetto forte i cinque l'unico vero obiettivo è quello è quello mio parere lo ribadisco mio parere personale dobbiamo ancora parlare anche all'interno del gruppo all'interno del partito è l'unico vero obiettivo mio parere è quello della fusione io qualche consigliere la volta scorsa in sede di commissione ha detto eh no scusami qualche consigliere un consigliere la volta scorsa in commissione ha detto che ha ribadito che il consigliere dal MAS ha detto che è difficile che gli strumenti non ci sono gli strumenti legislativi invece gli strumenti legislativi nazionali ci sono ci sono anche quelli regionali e anzi secondo me la riforma Panantin la riforma sulle autonomie locali che li sta semplificando e quindi e quindi eh dà molto aiuto appunto e soltanto secondo me è una questione proprio di mentalità che forse la vecchia politica ancora non ha non vuole non vuole ancora superare io sono quindi convinto che l'obiettivo finale è quello di arrivare ad un unico comuni la semplice unione riporterebbe verso riporterebbe verso un percorso occidentale contentativi di dar vita questo percorso ad enti secondo me con l'unione si dà vita ad enti inutili infatti si dovrebbe costituire un'assemblea dei sindaci dell'unione mi sembra che ci sia anche una giunta dei sindaci dell'unione quindi ulteriori costi della politica in un territorio come quello dei nostri cinque comuni che è ben strutturato ben omogeneo e in continuità ritengo non necessario che ci siano cinque sindaci cinque segretari generali una trentina di assessori e anche un centinaio di consiglieri comunali comunali basterebbe un solo sindaco per questo territorio di centomila abbiamo città che duecento duecentocinquantamila trecentomila di tali città di milioni con un solo sindaco sostenuto da un'unica giunta e da un consiglio comunale che sui centomila secondo me può anche essere composto da trentadue consiglieri si potrebbe anche risparmiare su altri costi cioè basterebbero un solo ufficio di segreteria e poi ci sarebbe un'unica elezione un'unica tornata elettorale sicuramente queste poi potrebbero da questo si otterrebbero delle risorse che potrebbero essere utilizzate anche per gli investimenti Deve concludere consigliere Prego Deve concludere Vabbè era questo allora concludo dicendo mi scuso anzi se sono se sono se sono sforato e concludo dicendo che il voto perché siamo in dichiarazione di voto il voto del mio gruppo certamente è un voto positivo e pertanto il gruppo voterà in modo favorevole grazie Grazie consigliere Consigliere Cardin Prego Grazie presidente si è discusso molto in questi giorni abbiamo anche letto sui giornali di accorpamento dei comuni ed è questo un terreno a mio parere molto scivoloso perché si rischiano quasi sempre le barricate a tutela dei famosi campanili io non condivido completamente il discorso del consigliere Tomasello perché quella che sembra suggerire è sostanzialmente una sorta di fusione a freddo mentre Gianni Franchin a mio parere poneva una questione molto rilevante ovvero questo processo di unificazione da dove deve partire deve partire dalla regione o deve partire dai comuni deve partire dai cittadini ecco io penso che l'unica possibilità per riuscire a giungere effettivamente a una fusione tra i vari territori sia proprio quello di arrivare ad un percorso partecipato perché una fusione a freddo vista come atto d'imperio da parte degli organi amministrativi che legiferano e impongono senza ricorrere a progetti partecipati a mio parere pur essendo valida nelle prospettive rischia senz'altro il fallimento proprio perché è naturale la tutela del campanile una fusione a freddo tra i comuni non può essere giusta ma non ha speranze di essere vissuta in ottica positiva e lo abbiamo visto anche semplicemente con le reazioni che sono derivate quando Monti ha tentato di sopprimere alcune province c'è stata una levata di scudi da parte di quelle province che non erano state che erano delle quali si prevedeva la soppressione a nostro parere ha molto più a nostro parere ha molto più senso implementare invece la collaborazione tra comuni per la gestione di servizi cosa che peraltro già avviene in molti campi non soltanto tra il comune di Roveredo il comune di Pordenone per quanto riguarda la polizia municipale ma anche per la gestione dell'acqua per la gestione di altri servizi ecco queste forme di collaborazione tra i comuni noi le sollecitiamo e riteniamo che possano creare le condizioni per una reale unificazione dei comuni che arrivi anche a una riunificazione voluta e sentita e partecipata dai cittadini riteniamo quindi che l'istituto dell'Aster vada implementato e utilizzato in misura sempre maggiore per quanto possibile sarà questa collaborazione tra i comuni a condurre come fatto naturale a un'unificazione a un'unificazione dei territori senza quelle elevate di scudi che purtroppo le fusioni a freddo certamente avrebbero creato noi siamo quindi assolutamente favorevoli a questa delibera e auspichiamo anzi che questo istituto per quanto magari non finanziato più dalla regione possa essere sempre in più larga misura utilizzato grazie consigliere Pedicini prego sì grazie un brevissimo intervento per dichiarare intanto il voto favorevole a questa delibera vedi assessore le nostre perplessità non erano tanto sul fatto di fare Aster con i comuni su cui abbiamo sempre dato un parere favorevole anzi la auspichiamo però ho la vaga impressione vede una volta Valle Noncello faceva comune a sé poi hanno deciso per decreto anzi per legge che Valle Noncello non era più comune e faceva parte del comune di Pordenone io ho l'impressione che o qualcuno si assumerà la responsabilità di stabilire che si è comune superiore a tot abitanti oppure tutta questa questa cosa che va avanti non da oggi da ieri ma da vorrei dire 40 anni come minimo continuerà ad andare avanti perché continuerà guardate l'esperienza di Ardene Valvasone a Martino che l'abbiamo recentemente adesso addirittura ho sentito che si vuole cambiare la norma regionalizzata stabilendo che basta la maggioranza di tutti i comuni questo non va bene perché sennò Pordenone può fare subito immediatamente referendum con gli altri bastano i voti del comune di Pordenone che quelli di Sanquirino di Rovereto non ce la faranno mai mandevano tutti votare tutti assieme contro ecco allora vedete anche quello non so neanche se è costituzionale se si può fare che basta la maggioranza assoluta dei votanti ci vuole la maggioranza io non mi singolo prego è tutto si può fare nella vita però bisogna io lo farei meglio con una norma visto che la regione Fremio di San Giulia ha competenze primarie in materia stabilisce che si è comune e superiore a tot abitanti fine della questione e per fare puoi mantenere così come era stato già proposto puoi mantenere la tua municipalità perché quella anche Valenoncello è sempre Valenoncello non viene meno e forse come diceva prima qui il presidente della circoscrizione Rai Capucini forse nel momento che arriveremo a farlo ne parleremo magari dopo poi faremo la circoscrizione di Porcia la circoscrizione di Cordenons la circoscrizione di Roveredo e quindi avremo un altro ragionamento c'è un'altra possibilità allora concretamente va tutto bene va bene le altre va bene l'Unione dei Comuni va bene ottimizzare i servizi questo mi sembra scontato e questa cosa va fatta e quindi il nostro che riusciamo ad arrivare ho qualche dubbio perché o abbiamo il coraggio e concludo la politica ha il coraggio di affrontare una volta per tutte queste decisioni e quando la politica smetterà di voler cercare il consenso a tutti i costi ma cercherà di fare le cose nell'interesse dei cittadini che a volte possono anche scontentare una parte dei cittadini perché non è detto che le decisioni dell'amministrazione e della politica devono sempre accontentare tutti sapete benissimo che un buon padre di famiglia che vuole accontentare sempre e costantemente i propri figli non li sta certo né educando né crescendo quindi qualche volta bisogna dire di no o prendere anche delle decisioni che possono essere scomode bisogna che chi ha competenza in materia e in questo caso la regione che ha competenza primaria in sede di autonomie locali prenda una decisione faccia una legge e stabilisca che in questa nostra regione ci deve andare ma non se volete si va perché da oggi in poi si fa così e allora forse avremmo risolto una volta per tutti questi problemi fino ad allora continueremo a ragionare a parlare ma speriamo veramente bene quindi voto favorevole Grazie Consigliere Piccini Consigliere Piccin prego Grazie Presidente ma io ho sentito fino adesso degli interventi che fanno riferimento ad una tematica che secondo me non è come dire all'ordine del giorno preciso di questa sera anche se è evidente che quando si parla di di messa in comune di servizi la stampa ha fatto la sua parte in questi giorni e ha parlato di accorpamento di comuni e quindi adesso noi parliamo di questo ma allora guardate io ritorno indietro di un passo sì io ritorno indietro di un passo e dico due cose a proposito della della delibera no? Allora questa è una delibera ci è stato detto sebbene ho capito di tipo tra virgolette tecnico una proroga di fatto e devo dire senza timore che ho sentito il sindaco di roveredo il quale mi dice beh sì è una questione di tipo tecnico però evidenzio da un ragionamento e da alcune così questioni che mi sono venute in mente poi che è vero concordo su quanto ha detto la collega Cardine anch'io sono favorevole sul fatto che si mettano in comune qualora ci siano gli elementi le possibilità gli accordi si mettano in comune il numero maggiore di servizi possibili soprattutto se si tratta di piccoli comuni qui si tratta di un comune grande di un comune più piccolo che comunque hanno come ci diceva l'assessore in commissione trovato da entrambe le parti dei benefici io mi scuso del fatto che non sono riuscita ad approfondire nel dettaglio quali sono le esperienze positive immagino che non siano state tutte quante positive o che magari l'amministrazione che scade adesso quella di Roveredo in primavera e che quindi è stata eletta nel 2008 successivamente 2009 pardon successivamente all'entrata in vigore della convenzione aste del 2007 non so se ha avuto la possibilità di modificare o se si è ritrovata di fronte ad un pacchetto che ha condiviso fino in fondo tant'è che però per correttezza immagino e proprio perché ci sarà una nuova amministrazione che potrà essere questa o che sarà un'altra dice ok andiamo avanti la delibera dice ad un certo punto valutata positivamente l'esperienza di gestione associata qui assessore ma è anche un problema mio perché non li ho chiesti prima non ci sono dei dati precise specifici cioè faccio questo riferimento no a noi ci pagano a un certo punto si è sentito no allora immagino che siamo inattivo ma siamo inattivo dal punto di vista economico economico per quanto introitiamo abbiamo fatto le valutazioni per quanto riguarda il personale che comunque noi mettiamo a disposizione in qualche modo immagino di sì perché se qua è scritto conveniente chiedo scusa ma ripeto non ho approfondito il dettaglio immagino di sì certo è che guardate io mi trovo d'accordo noi ci asteremo benevolmente su questa delibera insomma voglio dire anche perché è a tipo tecnico certo è che dal dire accorpiamo comuni per fare una macroarea Pordenone Porcia Cordenons Roveredo e così via la strada credo sia ancora abbastanza difficile non ci siamo riusciti con comuni piccoli che hanno grossissime difficoltà dal punto di vista proprio gestionale minimo vedo un po' più difficile per ritornare all'argomento su questo su questo elemento la guarda guarda collega Tomasello la questa furia che c'è sui tagli io credo che debba essere come dire una una questione seria credo che non debba andare di mezzo con la giusta causa dei tagli e dei risparmi l'autonomia e l'identità di un singolo territorio credo che Roveredo piuttosto magari che ne so Porcio un pochino di meno però non so San Quirino abbia delle peculiarità diverse rispetto al territorio di Pordenone e credo che i cittadini tutto sommato se poi gli verrà imposto per legge ci vengono imposte tante cose per legge e come dire vengono calate dall'alto e così è però ripeto non credo che i cittadini da questo punto di vista percorreranno la via del consenso fino in fondo grazie 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 consigliere pici consigliere salvador prego grazie presidente velocemente sulla visto che credo di avere solo 5 minuti sulla delibera la dichiarazione di voto è favorevole è un piccolo invece contributo al dibattito che si è aperto alla fine della discussione di questa delibera ringrazio il consigliere Tomasello innanzitutto e lo ringrazio non solo per i complimenti per l'iniziativa che vorremmo poi in qualche maniera continuare per sviluppare questo dibattito al quale noi crediamo ma lo ringrazio soprattutto per il fatto che sta giocando a carte scoperte almeno lui nel senso che molto spesso quando si parla di aggregazione dei comuni si usa la parola aggregazione si usa la parola aggregazione per quasi per poco coraggio di dover dire fusione in sostanza molto spesso il passaggio unione associazione onestamente come fiume sì noi posso dirlo senza irritare nessuno credo che la fusione sia il risultato finale che dovremmo avere con gli altri quattro comuni implemento soltanto una piccola cosa nei suoi confronti quando diciamo che il contributo è la maggioranza non se sono dimenticato ma sono sicuro che la pensa come me credo che il contributo sia di tutte le forze comprese tutto il consiglio infatti tutte le forze politiche perché e questo per rispondere alla consigliera Cardin non credo che sia una fusione a freddo nel senso che l'aggregazione la fusione l'unione di questi quattro comuni credo cinque comuni credo che sia necessaria a prescindere dalla riforma Pannuntin noi abbiamo voluto aprire questo dibattito in città quasi con il pretesto di parlare della riforma Pannuntin ma in realtà è una discussione che dovrebbe essere fatta a prescindere dalla riforma regionale che vuole mettere in atto perché in qualche maniera i principi sui quali basare il primo è sicuramente che in questi due anni e mezzo io francamente come consigliere ho notato che come dire le armi le possibilità le risorse le attitudini la possibilità che ha questo comune comuni Pordenone ma ne penso a tutti quelli comuni italiani soprattutto quelli più piccoli siano veramente poche le armi per rispondere alle esigenze che i cittadini e anche le attività commerciali produttive tutte chiedono al front office dell'ente istituzionale che è sempre il comune questo mi sono accorto e tutto sommato non abbiamo molte armi il fatto della fusione dell'aggregazione tra comuni la vediamo come la possibilità in qualche maniera di liberare delle risorse e di poter reinvestire in qualche modo su delle politiche che possono essere quelle al servizio della persona e allo sviluppo sociale e economico di una città questi sono i due principi sul quale noi dobbiamo puntare e solo ragionando in termini di area vasta possiamo rispondere a questo perché è sempre per implementare quello che ha detto il consigliere Tomasello quello che vorremmo far passare e non è tanto la riduzione dei costi che può avvenire attraverso una fusione aggregazione chiamata come volete ma siamo certi che lo sviluppo di una comunità in questo caso la comunità di questi cinque comuni sta nel mettersi insieme per alzare quel coefficiente di sviluppo che da soli avrebbero dimezzato a nostro avviso non è solo la questione di risorse di tagli di spese è la possibilità di avere un coefficiente di sviluppo molto più alto e ripeto per noi sviluppo significa la capacità di gestire politiche ai servizi delle persone di sviluppo sociale e economico di una comunità quindi a questo punto io chiedo al sindaco a questo punto visto che il dibattito si è aperto si è aperto sui giornali si è aperto anche finalmente anche in consiglio comunale a questo punto chiediamo che il sindaco in qualche maniera possa individuare le modalità che lui ritiene più opportuni i progetti che ritiene più opportuni per portare come dire Pordenone promotori di questa idea di mettere insieme le forze di questi cinque comuni grazie grazie consigliere Salvador consigliere Freschi prego grazie grazie presidente convengo con quanto diceva l'assessore Mazzer all'inizio dell'illustrazione della delibera sul fatto che la delibera capita in un momento particolare probabilmente fosse capitato in un altro contesto non avrebbe suscitato l'interesse e il dibattito che questa sera sta emergendo ecco io non sono un tifoso di una di una scelta piuttosto che di un'altra io penso che tutti i passaggi debbono essere passaggi seri ponderati analizzati e debbono avere alle loro spalle un percorso che si basa su dati anche oggettivi qualcuno ha parlato di fusione a freddo qualcuno ha parlato invece di unione fortemente caldeggiata io penso che dovremmo stare attenti anche ai termini che usiamo guardate dipende sempre dall'angolatura con cui ci si pone se noi il problema lo vediamo da Pordenone o il problema lo vediamo da Sanquirino perché questa è una questione dalla quale non possiamo non possiamo prescindere allora io colgo la delibera di questa sera come uno strumento che ci permette un percorso virtuoso cioè come uno strumento che parte da dei dati oggettivi cioè parte da delle esperienze sul campo per arrivare a una progettualità che vede molto più in avanti pertanto è chiaro che il mio il mio voto il nostro voto sarà favorevole a questa delibera ma sarà favorevole anche dal punto di vista propedeutico perché è un percorso che ci permette di capire se effettivamente siamo maturi per determinati percorsi per determinate strade per determinati progetti oppure se sono solo delle denunciazioni che capitano in un momento particolare che in qualche modo la crisi ci impone perché ci impone delle riduzioni di spesa e di fronte alle quali ognuno di noi cerca giustamente anche mettendo in moto tutti i processi di esperienze o di fantasia che può mettere in moto per arrivare ad una soluzione che possa essere in qualche modo condivisa ed efficace per cui questa delibera diciamo che ci getta le premesse per poter dire ci sono alcuni punti nei quali abbiamo fatto sperimentazione e questi punti ci hanno dato dei risultati in commissione io chiedevo all'assessore se per cortesia mi diceva quali erano i punti di eccellenza e quali erano i punti di criticità del percorso che finora è stato svolto l'esposizione dell'assessore si è sbilanciata direi se non al 100% ma quasi verso i punti di eccellenza nel senso che ha dimostrato con dei numeri e con dei dati che effettivamente mettere insieme le energie le risorse le idee gli uomini le capacità ci dava la possibilità di arrivare a delle economie e dei risultati che potevano in qualche modo andare incontro a quelli che sono le esigenze dei cittadini bene se questo percorso ha i piedi robusti per continuare continuiamolo allora possiamo arrivare a quelle idee di progetto che venivano in qualche modo esposte perché state attenti che le fusioni per incorporazioni non sono mai gradite dall'incorporato sono sempre gradite dall'incorporante allora bisogna essere anche molto chiari su questi percorsi bisogna anche sapersi mettere sui piani precisi di dove vogliono mettersi le persone e le comunità perché altrimenti vediamo gli aspetti e le cose con uno strabismo cioè vediamo ciò che ci aggrada e non vediamo ciò che non ci aggrada allora per me ben venga tutto ciò che significa andare verso posizioni che in qualche modo possono favorire dal punto di vista sia della spesa che dell'efficacia e che delle risposte ai cittadini che possono favorire percorsi virtuosi però stando attenti anche alle sfumature perché penso che il rispetto delle comunità sia un rispetto di base abbiamo avuto esperienze in altre zone ma anche nella nostra provincia che ci hanno dimostrato che andando anche a un referendum il comune più grande diceva sì i comuni più piccoli dicevano no allora vuol dire che c'è un qualcosa che non quadra ancora nel ragionamento c'è bisogno di fare qualche percorso che in qualche modo faccia crescere un po' tutti giustamente il consigliere franchin faceva un passaggio che bisogna saper interpretare ciò che i cittadini hanno già fatto ecco io su questo già fatto vorrei che tutti insieme ragionassimo più approfonditamente perché è questo il punto focale della questione se tutti vogliamo andare verso una certa strada o se qualcuno tira e qualcuno tira da una parte e qualcuno invece tira dall'altra grazie e scusate se ho sporato grazie consigliere consigliere ribetti prego grazie presidente francamente non dovevo intervenire perché non era mia intenzione intervenire però visto visto che stiamo parlando di tutt'altro che la delibera oggetto di discussione a questo punto intervengo anch'io e forse avrei fatto meglio a non intervenire perché mi piacerebbe dire qualcosa fuori dal coro ma non per volontà di differenziarmi o di distinguermi ma semplicemente perché ritengo che sia o meglio si corre il rischio di essere questa corsa all'unificazione una delle tante ipocrisie in cui ci lanciamo spesso per cercare di anticipare dei tempi senza cercare di guardare quelli che sono realmente i problemi sento parlare ho sentito parlare da qualcuno in questa aula di riforma panontini fa venire la pelle d'oca c'è solo a pensarci per cercare di eliminare delle province che sarebbero il peggiore dei mali in Italia cioè lo spreco della politica sono le province da quello che si sente in giro questi sono i mali della politica le province i posti di consiglieri comunali che prendiamo tantissimo e sapete benissimo quanto prendiamo perché abbiamo tagliato la deregistrazione 7.000 euro una città capoluogo abbiamo adesso corriamo a fare che cosa la corsa ad accorparci per cercare di non vedere quali sono i veri problemi della politica del sottobosco che si porta dietro cerchiamo di dare il contentino alle persone e dargli quello che si vogliono sentir dire il problema sono i consigli comunali sono i 120 euro lordi che prendiamo qua dando disponibilità dalle 18 alle 23 59 con tutto lo studio che città dietro avete mai fatto il conto ai quanto c'è in tasca io intanto leggo sui giornali tagliamoci tagliamoci benissimo tagliamolo ma leviamo prima l'ora gli stipendi degli assessori cioè questo per dire cosa per dire che si fa presto parlare e spesso facciamo gli ipocriti anzi gli ipocriti facciamo lo dico a quelli che hanno le leve per decidere qui in quest'aula l'abbiamo già ricordato altre volte questa maggioranza ha affossato forse l'unica cosa seria che voleva fare il sindaco pedrotti ridurre il numero degli assessori levata di scudi levata di scudi non si poteva abbassare il numero degli assessori da 8 a 6 cazzo dico nessuno l'ha mai detto sul giornale no pedrotti dice una cosa il giorno dopo si insavisce cambia idea e dice la mia maggioranza non me lo fa fare abbiamo allora a maggior ragione abbiamo un sindaco schizofrenico perché lo supportate dai c'è diverso un limite di decenza a tutto allora quando io sento il capogruppo del pd o il quattro gruppo del piume che mi vengono a dire e a fare la filosofia la prosopopea sul risparmiare i soldi sull'unione dei comuni dimenticando che forse l'italia pesa degli 8100 erotti campanili ognuno con un'identità questo non vuol dire attenzione una difesa a spada tratta dei comuni che non hanno ragione da essere perché se ci sono dei buchi di comuni è giusto che siano loro a scegliere quella strada ma non veniamo a nasconderci dietro un dito signori la riforma Pallontin come ripeto mi fa venire a pelle d'occa solo il nome è qualcosa e dovrebbero credo condividere almeno questo come i colleghi che dal punto di vista costituzionale è qualcosa che non sta né in cielo né in terra viene privato il cittadino della possibilità di eleggere il proprio rappresentante all'interno di un'istituzione la provincia che è prevista dalla carta costituzionale o sbaglio no perché no io ho votato quello come assessore come consigliere comunale del comune di Fanna e quindi quello può diventare l'assessore della provincia c'è non in terra comunque tornando a noi ben venga ripeto ben venga il taglio agli sprechi ma che non sia un'ennesima presa per i fondelli dei nostri cittadini perché se vogliamo l'ho ripetuto e lo ripeterò la desesperazione dopo c'è una mozione spero di arrivare a discuterla possiamo fare anche noi nel nostro piccolo qualcosa invece noi nel nostro piccolo cosa facciamo tagliamo le deregistrazioni perché abbiamo 7 mila euro che non possiamo spendere come città capoluogo possiamo tagliare lo stipendio possiamo tagliare lo stipendio ai consiglieri della fiera del cda della fiera però non tocchiamo per carità non tocchiamo il presidente che allora lì non vanno toccati gli emolumenti possiamo avere un sindaco che invita i cittadini a un rinnovamento di genere di specie poi mi riconferma le ennesime persone con gli ennesimi stipendi quello va bene però aboliamo le province allora allora invito tutti invito tutti a essere un pochino meno ipocriti i costi abbiamo invito tutti a essere un pochino meno ipocriti ci sono degli sprechi si tagliano si tagliano ma vediamo di farlo a ragion veduta vediamo di farlo dove ci sono gli sprechi vediamo di tagliare i doppioni ecco questo ci tenevo a dire per quanto riguarda l'aspetto tecnico caro presidente oggetto della delibera si poteva chiudere con una piccola riflessione che noi il nostro gruppo si asterrà in quanto non capisce tecnicamente di cosa si parla e il risparmio che l'assessore Mazzer non ci ha dato grazie grazie consigliere consigliere Delben prego silenzio per cortesia grazie il dibattito è stato molto ampio ma in realtà noi abbiamo di fronte una delibera molto semplice che è quella di prendere atto che l'esperienza di mettere insieme alcuni servizi comunali fra un comune e uno vicino è stato utile per i servizi per le amministrazioni ed economicamente conveniente allora questa delibera dice l'esperienza ci porta a proporre un mantenimento di questa di questo accordo d'accordo il principio è salvo e io penso che su questo si possa dare un voto favorevole perché è un elemento importante però pur aver detto il voto favorevole faccio una considerazione che spero possa essere utile il comune col quale facciamo una convenzione ha se non sbaglio delle scadenze a breve per quanto riguarda il rinnovo delle loro amministrazioni e questo determinerà un periodo nel quale ci saranno difficoltà a fare atti amministrativi d'altronde abbiamo anche le idee chiare su quello che vogliamo fare allora quello che io direi come stimolo che questi 120 giorni per fare la bozza che sono il punto 3 della delibera e i successivi 90 giorni per completare possono visto che le carte sono pronte e che vogliamo dare con anche la forza che la giunta e il sindaco hanno da questo consiglio comunale una forte richiesta che questi tempi possono essere fortemente ridotti perché per dire tre mesi possa essere il tempo più che sufficiente per stipolare questi accordi e il comune di Roveredo che ovviamente è il nostro partner per cui non lo abusiamo se parliamo di lui possa affrontare la sua campagna del rinnovo delle sue amministrazioni avendo consolidato alcuni elementi importanti e sicuramente anche per Roveredo l'accordo con Pordenone come che per Pordenone dell'accordo con Roveredo è un elemento importante detto questo confermiamo il voto favorevole alla proposta di giunta grazie consigliere bene dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto comunico e dare via le procedure di votazione pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta di deliberazione numero 1 2014 associazione Aster tra i comuni di Pordenone e di Roveredo in piano dichiaro aperte le operazioni di voto operazioni di voto dichiaro chiusa l'operazione di voto l'esito della votazione è seguente presenti 37 votanti 37 maggioranza 19 favorevoli 29 contrari nessuno astenuti 8 la delibera è stata approvata pongo ora i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le votazioni dichiaro chiuse le operazioni di voto l'esito della votazione è seguente presenti 37 votanti 37 maggioranza 21 favorevoli 29 contrari nessuno astenuti 8 l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile bene passiamo ora alla proposta numero 2 del 2014 approvazione regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche la parola all'assessore Zille prego assessore la presente delibera che andremo ad esaminare prevede appunto un nuovo regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche il regolamento che ovviamente che noi esaminiamo è stato predisposto dagli uffici in relazione ad alcune situazioni che si sono determinate innanzitutto questo regolamento è del 2005 quindi è un regolamento che attualmente ha circa nove anni ed è stato in alcune sue parti superato da normative legislative che nel frattempo sono intervenute non ultima in modo fondamentale è stata la Bolkestein e poi tutti i decreti emessi dal governo Monti la legge la 148 la 214 la legge 27 e per finire poi le modifiche della legge regionale 29 del 2005 che è intervenuta sempre in materia di liberalizzazioni inoltre questo regolamento ovviamente è anche superato per quanto riguarda aspetti di carattere relativi ad alcune problematiche sorte di carattere gestionale soprattutto anche in relazione a quelle che sono le attività che andremo a gestire con la prossima adunata degli alpini quindi la legge regionale 29 del 2005 che finora ha regolato la cosiddetta normativa organica in materia di attività commerciali per la somministrazione di elementi bevande e poi la modifica alla legge regionale 6 gennaio 2002 prevede che in alcuni di questi articoli l'articolo 42 l'articolo 42 che praticamente è quello sull'autorizzazione amministrativa l'articolo 43 che è relativo all'esercizio dell'attività il 48 disposizione relative ai mercati l'articolo 50 la determinazione delle aree relative alle fiere l'articolo 51 gli orari e l'articolo 54 disposizioni procedimentali rimandano al regolamento comunale per l'esercizio del commercio la relativa regolamentazione ecco quindi con questo nuovo articolato si intende recepire tutte le innovazioni delle materie disciplinate e proseguire chiaramente nel processo di semplificazione amministrativa le principali novità e variazioni contenute in questo regolamento sono una serie di articoli che vengono introdotti al fine come dicevo prima per una migliore gestione amministrativa l'articolato al titolo 1 è formato dalle articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dove chiaramente la gran parte di questi articoli fanno riferimento a leggi non solo quelle ultime ma anche leggi precedenti e alcuni di questi sono stati riscritti diciamo per integrarli e renderli ovviamente vedi ad esempio l'introduzione della scia ad esempio non era prevista nel precedente regolamento ora viene inserita poi tutto l'articolato che va dagli articoli 11, 12, 13 ad esempio sono gli articoli che danno delle disposizioni specifiche per i mercati la tipologia dei mercati dei posteggi l'assegnazione dei posteggi rispetto a questi articoli si precisa che molte sono le disposizioni come dicevo già presenti nell'attuale regolamento molte sono norme che come si dice in gergo sono state scritte ma che rappresentano ormai consuetudine in atto e già consolidate da molti anni alcune norme sono state introdotte per progettare i futuri mercati soprattutto quelli all'articolo 11, 12 e 13 ricordo che l'amministrazione soprattutto per quanto riguarda la sua azione amministrativa in termini di mercati spesso abbiamo parlato della possibilità di allargare i mercati a livello rionale a livello di quartiere implica anche la possibilità di avere una flessibilità di tipo organizzativo cosa significa significa che avevamo delle norme rigide che ad esempio con l'introduzione invece su questo regolamento del mercato sperimentale ci permette di poter fare delle sperimentazioni e quindi di trovare una sorta di equilibrio tra gli operatori economici che devono ovviamente attivare queste iniziative e l'amministrazione mentre in passato si doveva fare chiaramente una come posso dire un'assegnazione che dopo aveva anche dei vincoli e quindi anche delle problematiche in essere quindi questo regolamento ci permette una maggiore flessibilità in termini di gestionare viene rafforzato anche l'articolato dedicato allo spostamento del mercato uno spostamento del mercato o parte del mercato voi ricordate alcune iniziative che abbiamo fatto a livello dell'amministrazione per valorizzare il centro storico il mercato europeo e qua il prossimo che avremo quello relativo alla donata degli alpini spesso con il vecchio regolamento potrebbe condizionare quella che è l'azione dell'amministrazione in questo modo abbiamo dato maggior impulso e maggior forza alla norma che prevede lo spostamento dei mercati questo ovviamente a tutela dell'amministrazione comunale fermo restando chiaramente che nell'articolato si prevede un certo numero di giornate garantite per gli operatori quindi a garanzia degli operatori economici all'articolo 24 commercio in forma itinerante diciamo c'è la novità più come posso dire più rilevante del regolamento fino a poco tempo fa i cosiddetti itineranti quelli che vendono ad esempio arance i basi che si trovano lungo le strade potevano fermarsi lungo le strade o le piazze per un massimo di due ore poi si dovevano spostare con la Bolkestai ciò viene cioè è un limite che non è più legittimo e quindi bisogna intervenire chiaramente perché si potrebbero posizionare in qualsiasi luogo della città e del centro cittadino cerchiamo di mettere un po' di ordine e quindi un limite all'esercizio delle attività del commercio itinerante e quindi in zone che non abbiano cioè possono continuare ma vengono preservate alcune zone che hanno carattere valore storico ambientale e quindi trovate nella delibera anche l'allegato 1 dove viene indicata l'area del centro storico così prevista dal piano regolatore dove si va a preservare l'insediamento automatico di queste attività quindi è importante intervenire su questo fronte altrimenti potremmo trovarsi con ventitori in piena area centrale già sta succedendo in parte e quindi appena si sparge la voce potremmo essere sommersi dalle richieste le aree che sono in questa delibera indicate diciamo come aree vietate sono l'area compresa nella zona storica della città a tutela dell'ambiente storico e paesaggistico del centro storico individuata nelle zone AS di pregio storico ambientale e le zone AP centro storico primario in base al vigente piano regolatore generale oltre a queste sono state aggiunte piazza 20 settembre e via Cesare Battisti che sono ovviamente la nostra piazza e i nostri luoghi dove generalmente vengono fatte anche altre manifestazioni e quindi questa delimitazione vieta il commercio itinerante diciamo così spontaneo l'amministrazione comunque prevede che per quelle manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale in occasione di proprie manifestazioni può concedere o vietare l'esercizio del commercio su area pubblica nelle reali dedicate alla manifestazione pur rimanendo è stato previsto che possono rimanere delle semplici attività soprattutto a servizio di chi va a passeggio nell'area del centro storico e quindi sono delle piccole attività senza l'ausilio del veicolo per la vendita di caldarroste palloncini zucchero filato prodotti similari naturalmente senza utilizzo di mezzi targati o strutture ingombranti il titolo quarto contiene due articoli uno dedicato alle manifestazioni e uno alle fiere e appunto all'articolo 26 riguarda le manifestazioni in genere ed è stato disciplinato nel dettaglio quali atti sotto il profilo commerciale debbono essere fatti in occasione di Italia 20 parliamo di sagre feste di quartiere feste patronali concerti mercatini dell'antico ariato di svuota soffitti incontriamoci a Pordenone tutte queste manifestazioni trovano in questo articolo una disciplina organica che prima non c'era ma che comunque venivano già chiesti non so per dire le scia tutte le documentazioni previste in termini di legge e in questo modo diamo anche dei dati certi per chi organizza queste manifestazioni su cosa devono fare all'articolo 27 viene introdotto invece la disciplina delle cosiddette fiere che noi al momento in città non abbiamo tipo le fiere di Santa Catarina Udine tanto per fare un esempio ma ripeto aprendo a questo concetto possiamo dare maggiore flessibilità in quella che potrebbe essere l'iniziativa sia da parte dell'amministrazione comunale ma anche da parte di associazioni che vogliono ovviamente proporre cose di questo genere poi abbiamo tutto un articolato diciamo così che ci mette in condizione di gestire meglio tutta la manifestazione degli alpini ed è il coma 5 dell'articolo 26 dove si dice si recita che nell'ambito di manifestazioni diverse dalle fiere o diverse da mercati nelle quali sono previste anche attività di vendita su aree pubbliche svolte da soggetti appartenenti a categorie diverse commercianti su aree pubbliche produttori agricoli artigiani onlus proloquo associazioni varie le suddette attività possono essere autorizzate temporaneamente per la durata della manifestazione dal responsabile dell'ufficio competente qualora la manifestazione ovviamente sia patrocinata dall'amministrazione comunale o direttamente organizzata dalla stessa all'articolo 31.8 appunto si cita che in occasione di manifestazione di rilevanza nazionale la giunta comunale può stabilire specifiche sanzioni per il commercio itinerante su area pubblica così pure è stato previsto all'articolo 80 punto 4 la rateizzazione della ratosa in caso di difficoltà di pagamento questo è stato introdotto anche in base al momento delle difficoltà si permette la rateizzazione del debito in 12 rate questo vuole essere anche un aspetto diciamo per andare incontro ad alcune situazioni detto questo devo dire che tutto l'articolato tende oltre ad adeguare nuovi modelli operativi sia dal punto di vista dello sportello unico e quindi della sburocratizzazione tra l'altro recepisce che tutte le domande devono essere mandate via online recepisce anche tutte quelle innovazioni in materia delle norme di semplificazione amministrative ma soprattutto ci permette una maggiore flessibilità per interventi per gli indirizzi che questa amministrazione ha dato per quanto riguarda la riqualificazione dei mercati ad esempio sui temi di ampliare l'offerta merceologica e quindi anche una maggiore possibilità di scelta e così pure anche i criteri per l'assegnazione dei posteggi è stato introdotto anche un concetto di fare spazio nel sistema dei punteggi anche per le età inferiori ai 29 anni e quindi dare particolare priorità a coloro che hanno anche idee innovative che presentano nuovi prodotti e poi ripeto quello che è l'aspetto più significativo abbiamo cercato di per quanto riguarda la gestione la posticipazione e lo spostamento dei mercati di dare più forza in modo tale che possano essere accolte anche altre iniziative in contemporanea con il mercato settimanale l'argomento è stato discusso nella commissione consigliare e ricordo uno degli interventi è stato richiesto se c'era la possibilità di inserire il DURC dalla consigliera Francesca Cardin cosa che personalmente tramite gli uffici abbiamo approfondito in base alle normative vigenti e abbiamo riscontrato pur nella volontà di poter accogliere questa proposta in questo regolamento non è stato al momento possibile inserirla proprio perché manca una normativa specifica di cui la competenza è della regione altre regioni hanno legiferato in materia e quindi altri comuni hanno inserito che tra la documentazione necessaria era anche quella di aver la regolarizzazione per quanto riguarda il DURC la materia poi è stata approfondita sotto vari aspetti e in questo momento non è procedibile ancora fermo restando l'impegno di questa amministrazione laddove si viene a conoscenza o siamo o si riscontrano delle situazioni di particolare segnalazioni che sia delle irregolarità di segnalarlo agli organi competenti perché questo possa permettere che chi svolge questo tipo di attività soprattutto per certe tipologie di imprenditori possano ovviamente garantire una certa qualità ma soprattutto ripeto la regolarità nei confronti di terzi l'argomento è stato poi cioè questo regolamento è stato mandato per i pareri di rito all'azienda per i servizi sanitari la conf artigianato imprese la confederazione nazionale artigianato piccola media imprese l'ascom confederacenti audio cons ad hoc ad hoc feder consumatori e poi ai nostri uffici interni abbiamo avuto le risposte la confedercenti con parere favorevole la conf artigianato imprese con parere favorevole con alcune prescrizioni peraltro superate poi perché quello che hanno detto corrisponde poi a quello che è scritto in questo regolamento che è stato accolto l'ascom con parere favorevole l'ufficio avvocatura che ci ha dato tutta una serie di prescrizioni utile per dare come dicevo maggior forza agli aspetti soprattutto quelli che riguardano ovviamente per motivi di interesse pubblico la possibilità dello spostamento dei mercati le circoscrizioni hanno espresso parere favorevole la sud osservando di prendere in esame la possibilità chiede che il mercato possa essere articolato nell'ambito dei quartieri come ho detto prima come già proposto in passato dalla circoscrizione sud per rivitalizzare l'economia periferica la circoscrizione torre parere favorevole circoscrizione orai capuccini parere favorevole e la circoscrizione centro parere favorevole ecco con questo avrei terminato grazie grazie assessore zille ci sono richieste di chiarimenti consigliere pedicini ecco grazie dell'esposizione assessore io purtroppo non ho potuto partecipare mi sono dovuto assentare quella volta dalla commissione per il problema del furto in casa ma mi sarebbe piaciuto però intervenire già in commissione lo faccio questa sera qui io ho un'impressione leggendo a posteriore questo regolamento che ci siano come voglio dire messo dentro un sacco di cose ma che il disegno organico di tutta questa vicenda che ridisegna un po' tutto il sistema sia frutto un po' anche della fretta data forse come ha detto giustamente lei proprio dall'evento degli alpini che abbiamo e ci saremmo trovati impreparati a poterlo affrontare così nei termini che si stanno affrontando quello di poter concedere oltre 200 spazi a chi ha bisogno di vendere qualcosa e tutte queste cose qua però in questo regolamento per esempio che lo vedo lei dice che si è sburocratizzato a mio avviso si è burocratizzato molto di più il fatto di andare online non tagna niente per esempio è apprezzabile il fatto che si parla del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo lei sa che a Pordenone se ne svolgono due il problema è che equipararle a fiere è come se gli organizzatori avessero una finalità di lucro lei sa benissimo che gli organizzatori sia di uno che dell'altro non hanno nessuna finalità di lucro e non fanno quello per averne un ricavo primo perché una è una onlus e un'altra è una proloco che non certamente lo fa per con finalità speculativa questo tipo di operazione allora obbligarli a fare la scia quindi che vuol dire un'attività commerciale ad associazioni che non hanno un'attività commerciale che non svolgono un'attività commerciale proprio per loro costituzione invece qui li si obbliga a dover presentare una scia e a dichiarare un'attività commerciale l'organizzatore io capisco che chi vende che più delle volte a questi mercatini partecipano anche obbisti o privati che non sono soggetti neanche perché svolgendolo in modo occasionale o vendendo il proprio prodotto svuota cantine svuota soffitto vendita libri usati cioè tutto questo mondo che esiste in città non è regolamentato è stato preso di pari passo ed è equiparato un'attività commerciale ma non è un'attività commerciale e chi organizza non lo fa primo non ha finalità di lucro e due non lo fa per una finalità commerciale e sto chiedendo allora sto chiedendo no no non è la mia idea bene allora faccio la domanda secca è possibile fermo restando questo regolamento emendare questo regolamento scrivendo semplicemente perché giustamente lo identificate lo delineate semplicemente dire che chi non svolge con finalità speculativa o di lucro questa attività può semplicemente essere autorizzato dall'amministrazione comunale senza presentare una scia che lo obbliga a dichiarare un'attività commerciale che non svolge perché se no facendo la scia che è proprio una dichiarazione di attività commerciale è una contraddizione allora la domanda è si può vedere emendandolo semplicemente dicendo chi non svolge questa attività commerciale non deve farlo punto ecco va bene molto semplice perfetto grazie consigliere del ben sempre per chiarimenti ok assessore articolo 21 Bruno articolo 21 comma 6 come chiarimento chiedo quale tutela o copertura può avere il commerciante infortunato punto di domanda quali tutele può avere la donna in puerperio punto di domanda possiamo questo comma copre le assenze per assistenza a persone che hanno articolo 3 comma 3 legge 104 copre queste previsioni l'assenza per l'assistenza al figlio malato di età inferiore ai 3 anni domanda questo articolo predetermina la durata delle ferie massime ultima domanda quali sono le caratteristiche della certificazione che deve essere presentata grazie consiglio perfido prego grazie presidente e grazie assessore tornando sul discorso del durc con la quale ho avuto anche uno scambio di mail con dirigenti dell'amministrazione cercando documentazione ho trovato una documentazione riguardante la regione Friuli-Venezia-Giulia quindi si è espressa in materia la regione Friuli-Venezia-Giulia dicendo che il documento relativo alla regolarità contributiva delle imprese è un utile strumento per l'osservazione del dinamico del lavoro ed è anche uno strumento che rientra quale tutela del lavoro anche per cercare di garantire una certa corretta concorrenza tra chi svolge un'attività del lavoro e al termine di questa circolare la regione la circolare del 2011 dice alla luce del quadro giuridico sopra delineato si evince un dovere in capo alle amministrazioni titolari anche dei procedimenti di cui alla legge regionale 29-2005 di acquisizione d'ufficio del DURC tramite il già realizzato collegamento informatico quindi chiedo un'interpretazione di questa circolare regionale che sembra chiedere d'ufficio il DURC poi se l'amministrazione spiega il motivo per cui in realtà non è necessario andremo a valutare la nostra posizione anche se in realtà preferiremmo tutelare chi svolge la propria attività pagando le tasse essendo in regola magari facendo anche sacrifici per pagare le tasse di questo periodo perché sappiamo com'è la situazione quindi nel momento in cui ci sarà la posizione dell'amministrazione allora poi ci comporteremo di conseguenza in fase di voto e un'ultima cosa riguardante l'articolo 19 il punto 2 lettera M si tratta di nelle aree di vita mercato è fatto assoluto divieto di vendere commerci a braccio infastidire le persone con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera questi punti che riguardano appunto coloro i quali devono rispettare tutto questo regolamento sono a norma hanno sempre rispettato la legge pagano le tasse pagano i contributi dei dipendenti e tutto non può essere anche nei giorni di mercato rivolto a tutti i mendicanti che popolano Pordenone durante le fasi del mercato? Grazie consigliere Bene Prego Assessore Sì alcune cose tento di risponderle io poi qua alcune sono più di carattere tecnico e la dottoressa Silvia Cigana potrà essere un po' più precisa Comincio dalla penultima quella relativa al DURC che lei appena ha letto ce l'ho qua però ho omesso tutte le parti che stanno sotto perché c'è una direttiva del direttore centrale che dice si evince un dovere in campo all'amministrazione anche per i procedimenti di cui la legge regionale di acquisizione ed ufficio del DURC laddove sussista un fondato presupposto per l'avvio del procedimento di controllo finalizzato la comunicazione successiva dell'eventuale irregolarità agli enti di competenza questo è quello che cita la regione di cui prima io ne ho parlato espressamente che ho detto noi i controlli quando se avremo dei fondati presupposti li praticheremo ovviamente andando attraverso gli enti di competenza questo sta nel nostro proprio in merito a questa nota ma anche in merito a quella che è l'idea nostra non so se rendo l'idea in questo senso ecco ecco poi tra l'altro anche altri testi ne parlano chiaramente che dice che alcune regioni il contrario altre regioni fra cui Venezia e Giulia avevano invece chiarito che la nuova normativa relativa non poteva trovare diretta applicazione nell'ordinamento regionale senza un esplicito recitimento o rinvio normativo proprio in quanto riferita a materia riservata a potestà esclusiva della regione quindi ci sono parecchi riferimenti riguardo alla materia per quanto riguarda l'aspetto sollevato dal consigliere Pedicini di fatto voglio ricordarlo ma poi sarà più precisa la dottoressa Silvia Cigana già adesso nelle manifestazioni viene richiesto la scia ovviamente è una scia specifica proprio per quel tipo di attività ripeto che non hanno un'influenza di carattere economico su questo ma chi ovviamente si assume la responsabilità organizzativa di queste manifestazioni la fa per tutti gli altri dottoressa se gentilmente può venire qua e quindi vediamo sui problemi sui problemi sui problemi delle associazioni che abbiamo dicono di allora non è che il comune chiede qualcosa in più chiede una cosa che è prevista dalla legge non mi risulta che i mercatini degli espositori del mercatino dell'antiquariato vengano qua solo per esporre fanno anche vendita ok ma c'è una legge c'è una legge specifica regionale che sostanzialmente dice che chi fa promozione e vendita deve fare questo atto ma mi sembra molto meno pesante il procedimento farlo fare direttamente all'organizzatore piuttosto che ai 50 che fanno che vengono lì da voi no quella scia che viene fatta viene fatta ai sensi di una legge regionale la set no ma non è un'attività commerciale è un'attività di fiera che ha una sua regolamentazione particolare non vuol dire aprire un'attività di questo non stia a preoccuparsi non sento niente non sento niente sì su questo è pacifico la finalità principale non è commerciale la finalità è anche mostrare dei prodotti e promuoverli certo e allora sì allora quello che si fa nelle aree pubbliche no no ma c'è una separazione netta eh perché il mercato e il commercio su repubbliche di cui abbiamo parlato fino adesso gli itineranti sono gestite da una legge completamente diversa ma perché viene equiparato a una fiera ma non è una fiera ma non è una fiera come la perché allora in regione Friuli Venezia Giulia abbiamo due tipologie di fiere una è la fiera che conoscete tutti che è la fiera di Pordenone una fiera nazionale che è regolamentata dalla legge 7 del 2003 una legge regionale dopo abbiamo altre tipologie di fiere sempre regolamentate da questa legge che sono ad esempio Terra E vi ricordate quando è stato fatto a Pordenone Terra E quella era un'altra fiera di questa tipologia e comunque sono tutte manifestazioni dove non c'è la prevalenza dell'attività di vendita appunto ma prevale l'attività promozionale così avviene in fiera così avveniva Terra E così avviene anche lo svuoto a soffitte o al mercatino dell'antiquariato un'altra cosa sono le fiere commerciali vere e proprie che sono regolamentate dalla legge regionale 29 del 2005 che è quella che regolamenta i mercati qui a Pordenone non ne abbiamo nessuna e vi faccio l'esempio tipico è la fiera di Santa Caterina Udine gestita con questa legge regionale regolamentata da questa legge regionale ed è sottoposta a un regime particolare di attività commerciale quindi sono due cose completamente distinte le fiere promozionali sono un aspetto che a conferma di quanto dice il consigliere non c'è la prevalenza dell'attività di vendita e un'altra sono le fiere vere e proprie commerciali dove c'è la prevalenza dell'attività di vendita se intervengo fuori microfono perché non possiamo stabilire che chi non svolge quel tipo di attività ha bisogno solo dell'autorizzazione comunale non ha bisogno perché è vero che la legge regionale stabilisce che ci vuole la scia però noi non possiamo avere un'altra categoria che non rientra in quella perché non è quella perché non svolgono un'attività commerciale perché non dobbiamo appesantire chi già ne fa volontariato per fare quello che fa e andiamo ad aggiungerci se avesse una finalità commerciale io lo capisco ma se fa volontariato e gente che si dà da fare noi le appesantiamo con una serie di autorizzazioni diamogli un'autorizzazione comunale quando hanno l'autorizzazione comunale a condizione che invece di riportarli dentro quel calderone lì che non sono stabiliamo fermo restando la norma regionale che quel categoria quel tipo lo svuota soffite voglio dire non rientra non è una fiera perché non è una fiera non rientra vista la prevalenza di espositori diciamo così privati del coso e rientra nell'autorizzazione comunale quindi non ha una finalità commerciale niente sia tanto semplice e ci diamo una categoria nostra che poi basta da guardare due attività importanti che abbiamo in città a Pordenone fatte dal volontariato entrambe senza finalità di lucro che male c'è non lo so tutto qua grazie perché non ce lo vieta nessuno perché ci dobbiamo complicare una vita ma quelli che vendono sono allora vendono i privati vendono ma non sono non sono attività commerciali Assessore ha terminato con i chiarimenti o c'è qualcos'altro? Sì è vero Sul periodo di assenza allora quando gli operatori mancano al mercato o lo giustificano o non lo giustificano se lo giustificano lo fanno in alcuni sistemi quelli che trovati qua sono quelli che già sono in uso succede tante volte che gli operatori sono in malattia che hanno dei periodi di malattia o gravidanza come c'è scritto qua ci mandano il certificato medico è vero che qui non c'è scritto la 104 tutte le altre forme di tutela però è anche vero che non c'è un limite al numero di giorni di ferie per cui noi quando abbiamo questi casi di magari hanno dei parenti prossimi che hanno malattie e vengono a spiegarceli noi lo risolviamo con una richiesta di ferie semplicissima non abbiamo mai avuto problemi sotto questo punto di vista nel senso che gli operatori sono abituati a questo sistema quelli che vogliono mandano certificato quelli che non si premurano di farlo vanno in assenza e quindi le assenze vanno conteggiate ai fini dell'eventuale revoca del posteggio un operatore può stare assente massimo 4 mesi durante il periodo dell'anno dopodiché il posteggio va in revoca automatica quindi loro stanno ben attenti a giustificare le loro assenze penso sia sufficiente questa risposta Assessore terminato con i chiarimenti pare di sì c'era c'era quello che parlava che all'interno del mercato ci sono i medicati quello è un problema ma sì terminato? ah grazie bene terminati chiaramente pertanto dichiaro aperta la discussione consigliere Martino prego grazie presidente beh innanzitutto un ringraziamento all'assessore alla dottoressa cigana e al personale per il lavoro svolto per la stesura di questo regolamento che so che è stato un lavoro anche molto laborioso un ringraziamento perché con questo regolamento si va ad innovare quello del 2005 che appunto era ormai superato da tutti gli atti legislativi che erano stati sia regionali sia nazionali che nel frattempo emanati ecco c'è da dire subito che questo è un regolamento tecnico l'assessore ha già sia in commissione sia questa sera ha rappresentato un po' gli aspetti principali quindi io non toccherò assolutamente questi questi punti voglio solo dire che la necessità di colmare i vuoti che c'erano appunto per meglio applicare il regolamento comunale in tema di commercio su aree pubbliche questa è la cosa così che ci interessa di più e che il comune ha fatto in questa maniera è più facile gestire le tipologie dei posteggi dei mercati delle fiere eccetera ecco io toccherò due tre punti di natura così politico amministrativa uno è quello della semplificazione questa parola della semplificazione abbinata a quella della informatizzazione della pubblica amministrazione è ormai un argomento direi uno slogan che sentiamo da anni però non sempre alle parole sono sono seguiti i fatti in particolare mi riferisco a livello nazionale dove mi viene in mente il famoso falò del ministro Calderoli quello il il falò della della di tutte le leggi inutili io in questi anni ho visto pochi testi unici ho visto poca semplificazione io credo che su questo punto a livello nazionale naturalmente prima ma poi via via bisogna bisogna veramente mettere mano perché tutti diciamo che la burocrazia nelle campagne elettorali sentiamo parlare di burocrazia per le imprese per i cittadini io penso che il comune in questo stia dando un esempio di semplificazione perché appunto dicevo prima è sempre tanto è sempre difficile districarsi è sempre difficile non commettere errori il comune sta facendo tanto io dico invito l'amministrazione a fare ancora di più tutto quello che è possibile in questa direzione perché bisogna sfruttare naturalmente la tecnologia come diceva tempo fa il sindaco e anche il nuovo modo di comunicare con il con il cittadino la tecnologia naturalmente a servizio del cittadino ma anche del personale del comune in questo caso che attraverso la formazione deve servire anche a valorizzarlo e successivamente a razionalizzarlo io così ho approfondito alcuni aspetti dicevo prima di natura più politica politica amministrativa che non tecnico la semplificazione in questo caso viene applicata accentrando tutti i procedimenti appunto in un unico in un unico procedimento scusate il ripetese della parola ma che ci consente al comune di gestire online tutta la documentazione dalla scia a tutto il resto e questo avviene attraverso lo sportello unico per le imprese altre novità così da che penso sia importante segnalare è quello dell'introduzione della come dire la disciplina del commercio itinerante da informazioni assunte presso gli uffici risulta che sono state rilasciate 1280 autorizzazioni a operatori che non sono solo del comune di Pordenone ma anche dei comuni della provincia e anche del vicino Veneto questo significa che queste autorizzazioni sono state rilasciate in quanto il comune di Pordenone è un comune di riferimento per queste attività e quindi questo evidenzia come l'ufficio è un ufficio dove appunto dietro queste richieste e oltre quello di gestire naturalmente il mercato dove c'è una persona assegnata per questo mercato cittadino intendo quello del mercoledì e del sabato è un lavoro abbastanza oneroso ecco io cito solo l'articolo 11 che introduce i mercati sperimentali per dire che la circoscrizione sud così come nel parere espresso ha già fatto cioè quello di richiedere un mercato di quartiere per quanto è della tipologia non lo so se è già stata individuata ma comunque penso che proprio grazie a questa novità normativa introdotta possa essere fatto nel possa essere così fatta una riflessione magari avviata anche una sperimentazione vedendo poi se c'è una risposta sia da parte dei degli operatori e sia da parte dei cittadini ecco l'assessore ha parlato di maggiore flessibilità per gestire eventuali situazioni di emergenza o situazioni particolari che con questo regolamento adesso è possibile fare anche per quanto riguarda le aziende agricole queste possono direttamente vendere i loro prodotti così detti a chilometro zero per i giovani ho visto che è stato introdotto un maggiore punteggio per loro nella graduatoria nel caso di età di giovani di età inferiore a 29 anni oppure nel caso di vendita di prodotti innovativi ecco un'ultima cosa che volevo così mettere che poi una richiesta metto in evidenza è quello che sono state diciamo si è stata valorizzata l'area di piazza risorgimento con l'iniziativa della svuota soffitte io credo che ci siano altre aree da valorizzare nel nostro territorio in particolare ne cito tre che sono quelle di piazzetta del portello perché sono aree a ridosso del centro e credo che appunto proprio per questo motivo vanno rivitalizzate e piazzale 4 novembre in queste due aree io credo che non dico in maniera permanente ma almeno in determinate occasioni durante durante manifestazioni occasionali si possono sfruttare questi siti per si possono sfruttare questi siti per appunto delle iniziative mi viene in mente non so ad esempio per quanto riguarda piazzale 4 novembre un'iniziativa simile a quella che si fa chionzi denominata chionzi in fiore o comunque qualcosa da pensare ecco l'importante appunto è animare queste aree e la terza è quella adiacente il ponte di adamedeva la cosiddetta bassura dove secondo me è un'area dove ci sono stati già degli interventi con i parcheggi ricavati così con una modica spesa ma io credo che quell'area si possa si possa veramente pensare come un'area di come punto di incontro per la città perché anche questo è a ridosso del centro è un'area dove si può sfruttare benissimo durante il periodo estivo magari fare una piazzetta alberata dove si può riunire e dove anche durante il periodo estivo penso l'estate in città si possono concentrare delle iniziative ecco per tutto questo a nome del gruppo del partito democratico ma anche della maggioranza almeno così il il nostro voto sarà favorevole grazie grazie consigliere martino consigliere pedicini prego allora da quello che ho capito così ritorno a quanto stavo dicendo prima non c'è nessuna intenzione di emendare il regolamento eppure volevo chiarire questo aspetto vede anche nell'attività commerciale un conto è il commerciante che svolge la sua attività legittimissima al mercato che fa le sue cose e un conto sono i privati che intervengono a vendere i propri prodotti o il collezionista che vende sono mondi completamente diversi equipararli e portarli tutti sullo stesso piano non so se effettivamente è corretto ed è giusto farlo io penso che le due cose siano da tenere su piani distinti e forse questo regolamento poteva separare le cose anche perché si fa uno sforzo nell'andarle a definire allora se si vanno a definire e dopo non succede niente ma vengono equiparati agli altri non è la stessa identica cosa anche perché si svolgono anche in modo completamente diverso come diceva il consigliere Martino Gregorio prima sul mercato cittadino che a mio avviso non so se avete fatto anche su questo apro una piccola parentesi una riflessione il mercato cittadino ha subito come posizionamento e anche come dislocazione delle attività merceologiche ha subito delle variazioni ora la sperimentazione diciamo così ha funzionato il fatto di trovare il venditore delle verdure uno in piazza della Motta un altro davanti al Cinema Verdi e un altro in piazza 20 Settembre e un altro ancora da un'altra parte e non dare la possibilità per esempio agli avventori di fare un confronto dei prezzi per esempio perché avendoli vicino si instaurava anche la possibilità di vedere a chi vendeva meno le patate e chi vendeva meno la frutta ed era un modo per aiutare anche il cittadino perché aveva un modo per senza dover fare mezza portenone a piedi la possibilità di poter confrontare i prezzi creare quella libera concorrenza che avvantaggiava sicuramente il cittadino che si recava a fare la spesa funziona è accolto bene questo tipo di possibilità non mettere le attività merceologiche oppure creare degli spazi dove creare per esempio il mercato delle erbe tutto da una parte il mercato di abbigliamento da un'altra così come viene in altre città allora piazza della motta poteva essere data come settimanalmente come il mercato delle erbe un'altra piazza oppure un'altra è differente dove si trovano le altre attività aver così mischiato data creando così la possibilità ai cittadini di avere un confronto che in realtà oggi al mercato di oggi non hanno a tutti capita di vedere dei mercati in giro per l'Italia che poi è molto bello perché è folcloristico anche andarli a visitare e io penso che la situazione di Pordenone sia più unica che rara io non so da chi sia stata mutuata o chi l'abbia pensata di organizzare il mercato cittadino in questo modo con questa distribuzione e messa in questo modo sul territorio comunale non lo so i mercati che io vedo in altre città anche storici mercati storici hanno un'altra fisionomia e hanno un'altra caratteristica che noi non abbiamo però voglio dire avete sperimentato che così funziona? Io non lo so a me sembra che facendo questo non aiutiamo il cittadino allora tornando a quanto dicevo prima quindi questo è un tipo di mercato lo spazio il tavolo il venditore di prodotti il suo spazio che è delimitato acquisisce uno spazio lo può trasferire è un'attività commerciale vera e propria quella del mercato i mercatini sono tutto un altro mondo è come dire che per fare il mercatino di Natale che avete dato gestione dell'ASCO in quest'anno bisogna fare la scia dovranno fare la scia anche quelli perché anche per far quello ma non è una quella quello che dicevo prima è vero che vendono ha ragione signor sindaco li vendono ma allora se uno che la legge prevede che se uno che vende un collezionista che vende non è un'attività commerciale può vendere se suota la soffitta o la cantina se non lo fa in modo continuativo in modo di attività commerciale lo può fare l'importante è che non si identifica come attività commerciale ma l'organizzatore sicuramente non è lui non fa una svolgione di un'attività commerciale perché organizza un evento che si può ripetere come vengono tutti i mercatini per esempio dell'antiquarato delle ruote a soffitte in giro per l'Italia ma non svolgono un'attività commerciale essendo associazioni anche senza finalità di lucro ecco allora chiedevo una maggior riflessione su questo ma mi sembra di capire che non se ne parla e vabbè prendiamo atto poi semplificare maggiormente questo tipo di attività non costerebbe assolutamente nulla io capisco che ci sono dei vincoli dati dalla normativa e capisco anche delle responsabilità da parte di chi poi è tenuto a controllare e a dover certificare determinate cose però usiamo anche un po' di autocertificazione facendo assumere responsabilità capisco che poi succede di tutto e di più però bisogna essere a mio avviso io lo dico sempre la differenza fra noi e i paesi anglosassoni che noi mettiamo a priori l'idea che il cittadino qualunque esso sia in qualunque sua funzione non rispetta le norme nei paesi anglosassoni fanno esattamente il contrario stabiliscono che a priori che il cittadino è rispettoso della legge e gli credono fino a prova contraria però quando lo beccano che non rispetta le norme perché anche quelli non rispettano le norme le punizioni sono severe molto severe e vengono anche applicate da noi facciamo il contrario a priori stabiliamo che tanto lui non rispetta le norme facciamo in modo bizantino tutta una serie di norme eccetera ma poi alla fine applicarle o farle rispettare è un'opzione e facciamo esattamente al contrario a me piacerebbe di più vivere in un paese dove si dà massima fiducia ai cittadini che però quando vengono meno a questa fiducia vengono severamente puniti e c'è la certezza anche della punizione è un po' quelli che deridono quando si entrava negli Stati Uniti e facevano l'immigration ti fanno fare le dichiarazioni lei fa uso di droga lei è un spacciadroga lei è un terrorista e tutti ridono perché dicono come? io se sono un terrorista lo dichiaro qui è ovvio che non lo dichiaro ma loro che stupidi non sono ti fanno dichiarare esattamente quello che tu vuoi dichiarare ma quando poi ti prendono è un aggravante il fatto di aver dichiarato di non esserlo e invece di esserlo e quindi dopo le pene sono sono maggiori e sono anche da scontare effettivamente ecco allora voglio dire vedendo questo regolamento del comunale per l'esercizio delle attività nelle aree pubbliche che è un argomento vasto importante ho l'impressione sinceramente che ci sia qui un po' la fretta nel dover intervenire io non lo so se stasera questo regolamento viene approvato così com'è io spero che in futuro si possa riprendere in mano e anche dopo una sperimentazione e anche dopo una verifica di eventuali situazioni si possa pensare di rivederlo in alcuni punti come le ho detto nel primo intervento che avevo fatto per dichiarimenti così mi dispiace non aver potuto partecipare attivamente alla commissione e poter aver dato un contributo maggiore ma in realtà non sono contrario al regolamento anche se non mi troverò nella condizione di votarlo questa sera per questi motivi che le ho appena detto perché a mio avviso avrebbe avuto bisogno di una maggiore articolazione lo so che non cambia niente però intanto era una maggiore articolazione e una maggiore separazione delle funzioni che quando l'amministrazione decide come per la donata degli alpini una manifestazione importante vi riservate di poter autorizzare occasionalmente non fate fare nessuna scia perché voi per la donata degli alpini scia non la fate fare a nessuno non la fate voi non la fate fare a nessuno allora per quelli che sono invece in questi tipi di mercatini poteva essere previsto la stessa identica cosa si poteva dire tranquillamente che dove l'amministrazione autorizza per cose che non abbiano determinate finalità o che non siano quelle ovviamente del mercato delle attività commerciali di quello come diceva prima il sindaco giustamente si poteva prevedere la stessa cosa così come fate per voi perché per voi non ve la fate la scia e no dice noi l'autorizziamo noi è manifestazione nazionale è manifestazione occasionale non si ecco poteva essere fatto lo stesso ci poteva essere ripeto una maggiore attenzione nei confronti di chi facendo del volontariato svolge questa funzione se così non sarà io mi auguro che almeno in futuro si possa riprendere in vano e sistemare questa questa situazione per quanto ricongludo per quanto riguarda poi la questione del mercato cittadino anche su questo avremmo piacere magari quando è l'occasione visto che non è proprio l'argomento di questa sera nel senso che non stiamo parlando di come organizzare il mercato cittadino ma per esempio vorrei mi è piaciuto l'intervento che ha fatto il consigliere Gregorio per esempio il poter pensare anche a un mercato coperto in questa città in un momento come questo in un determinato luogo e poter pensare che ci potrebbe essere anche un mercato una volta esisteva sia un mercato del pesce esisteva un mercato in questa città dove fisso non solo il venerdì ma tutti i giorni della settimana esisteva la possibilità di poterla copertare sarebbe stato anche una cosa i mercatini di quartiere di cui si è parlato tanto in passato che ha già accennato il consigliere e che sono stati poi completamente abbandonati ma sono anche cose che vanno riviste all'interno di una politica generale di quello che è il mercato della città perché per esempio vanno a vitalizzare anche i quartieri Villanova Valle Nocello Torre per esempio Torre aveva chiesto in passato di avere un mercato rionale o di quartiere al terreno è lettera morta ecco se nel momento in cui andiamo a fare un regolamento tutte queste cose non sono prese in considerazione dovremmo riprenderle in mano in futuro per dire se pensiamo di fare queste cose ci dovremmo dotare di un regolamento diverso ecco che allora forse sarà l'occasione con più calma non pressati dalla durata degli alpini ma semplicemente da una volontà programmatoria anche di sviluppo di un'attività importante come quella del commercio ambulante di questo tipo di attività si può forse pensare anche a ridisegnare anche lo sviluppo della nostra città in questo senso grazie grazie consigliere del ben prego ok io ho fatto delle richieste di chiarimenti e mi è stato risposto in un certo modo penso che mi corra l'obbligo di presentare un emendamento a quel comma 6 dell'articolo 22 e questo emendamento che leggo e poi consegno dice testualmente questo i periodi di assenza motivati da infortunio da infortunio malattia gravidanza per perio e assistenza al figlio malato di età inferiore a tre anni l'assistenza a familiari riconosciuti in condizioni di handicap grave ex articolo 3 comma 3 legge 104 92 trattamenti riabilitativi o ferie non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione sempre che siano debitamente giustificati con le seguenti modalità due punti per motivi di salute o assimilati con certificazione sanitaria aventi le caratteristiche analoghe a quelle giustificative dell'assenza del servizio per i lavoratori assenti nel settore pubblico ferie due punti comunicazione scritta almeno cinque giorni prima e nella misura massima di 12 assenze anno questo sostituirebbe il comma 6 che soppresento ovviamente questo avrà solo numero 6 e nel regolamento il comma numero 7 non c'è per cui buon senso direbbe che l'8 diventa 7 e il 9 diventa 8 se si vuole grazie a tutti Grazie. Mi consiglia, ha terminato l'intervento? Sì, sì, ho finito. Grazie. Sono pragmatico e propositivo. Consigliere Loperfido, prego. Grazie, Presidente. Guardi, sicuramente Assessore, Dottoressa, dal punto di vista tecnico probabilmente è stato fatto il percorso corretto. Però poi c'è anche un versante politico e quindi lei sicuramente c'entra meno, Assessore, lei c'entra un po' di più, la Giunta c'entra un po' di più. Perché nel momento in cui ci si candida a governare una città, sì, ovviamente rispetta il regolamento, le leggi, tutto quanto, ma poi vengono dati gli strumenti ad un'amministrazione anche per dare un segnale politico. E allora, nel momento in cui viene stabilito, viene menzionato il DURC, quale probabilmente è uno dei pochi strumenti a disposizione per tutelare la concorrenza leale tra i negozianti, tra chi svolge un'attività produttiva, un'attività economica. E' uno strumento che viene incontro a chi, nonostante magari qualche tentazione, ha sempre rispettato la legge, di fronte ad un'economia magari traballante. Ecco allora che ci saremmo aspettati un segnale politico di questa amministrazione per dire, noi andremo a controllare che tutti quanti siano in regola con il DURC. Da subito, per dare un segnale per cui si sa da subito che a Pordenone non si può cercare di farla franca, magari mettendo un anno una persona a capo di una bancarella. L'anno dopo, visto che magari l'attività è nata così e così, io cambio la persona che si presenta ai banchi della bancarella, cambio il nominativo e cerco di farla franca, anche se magari l'anno precedente non ho pagato le tasse, non ho pagato i contributi, non ho pagato i miei dipendenti, non ho rispettato la legge e così via. Quindi un segnale politico per dire, cari ambulanti, Pordenone detta questa regola. Fine conti, chi è che può temere questa regola? Bastrebbe citarla nel regolamento, non vedo per quale motivo si dica, no, non la vogliamo mettere nel regolamento. Va bene, è un'interpretazione. Allora, se questa è la vostra interpretazione, noi come segnale politico avremmo preferito che di fronte a un requisito morale e professionale previsto dai leggi vigenti, avremmo preferito che ci fosse anche questo requisito, l'essere a norma e l'essere in regola anche per quanto riguarda la presentazione del DURC, anche perché è semplicemente una piccola pratica, non è niente di più. Però appunto sono segnali politici. E allora, sei, sette anni fa, come hanno ricordato i colleghi, si parlava di mercati rionali, che erano coloro i quali dovevano rivitalizzare i quartieri di Pordenone. Oggi, evidentemente, non è più un segnale politico che si vuole dare, nonostante magari il mercato rionale poteva essere un ottimo strumento per venire incontro a coloro i quali non possono prendere mezzo pubblico per venire in centro a fare la spesa, a portarsi le sporte, andare a attraversare tutto il mercato per trovare quali sono i due ambulanti principali che vendono a poco prezzo la merce e quindi magari, come diceva il collega Pericini, devono attraversarsi il mercato da una parte all'altra per comprare due chili di patate ecco allora che una persona magari di una certa età è un po' impossibilitata a farlo e vedrebbero di buon occhio un servizio di mercato rionale nei propri quartieri. E all'epoca, mi ricordo, che era un'idea che era sostenuta da tutti e questa idea poi è sparita. Quindi un messaggio politico che evidentemente non è condiviso da questo rinnovamento di giunta. Quindi un altro messaggio politico è il mercato cittadino suddiviso per, in base a cosa? Suddiviso per merceologia? È una cosa che è andata bene, questa sperimentazione che abbiamo fatto? O magari sarebbe il caso di rivederla? Quindi anche qua si richiede un messaggio politico a questa amministrazione perché va bene fare il regolamento perché ci sono gli alpini ma insomma, visto che ce l'avamo, potevamo affrontarlo anche in un determinato modo. Come in determinato modo poteva essere anche visto, ed era stata anche posta in commissione la questione, una rivisitazione dei permessi della ZTL. Perché non è possibile che durante il mercato cittadino, mentre si guarda nelle bancarelle, si rischia di essere presa sotto delle autovetture che passano. Perché io non riesco a capire come sia possibile disciplinare il traffico a Roma, a New York, a Londra, a Milano, ma non si riesce a disciplinare il traffico nella zona di traffico limitato di Pordenone. Cioè, quando ho letto quella dichiarazione da parte dell'amministrazione che purtroppo non siamo in grado di disciplinare la zona di traffico limitato di Pordenone, ho detto ma cavolo, forse veramente abbiamo un traffico, una popolazione che a me è sconosciuta e è il triplo di New York o di Londra. Cioè, è veramente qualcosa di incredibile. Quindi chiederei anche che la zona di traffico limitato venisse disciplinata, dando certamente il permesso a chi spetta, però facendo anche in modo che magari durante il mercato si trovi un accordo tra residenti, possessori di permessi di zona di traffico limitato, per dire, guardate, non è il caso che durante il mercato cittadino sia un via vai continuo di vetture, per cui chi fa carico e scarico deve passare, chi è residente deve passare, chi non è residente ma comunque il permesso per passare deve passare, perché a un certo punto sembra una situazione veramente all'italiana, per cui tutti quanti possono entrare, perché alla fine qualsiasi persona è amico di un amico di un amico, per cui il permesso spetta a tutti. E allora, nel momento in cui si fanno queste cose anche in vista della donata nazionale degli Alpini, veramente sarà una cosa importante disciplinare chi può entrare in quelle zone. Perché quando avremo 300.000, mi auguro anche 400.000 persone, i nostri poveri vigili potranno capire questo può entrare, questo non può entrare, oppure dice ancora il buon sì, vediamo, si monti, sì, perché te sono equati, no. Discipliniamo seriamente la zona traffico limitato, limitandolo seriamente. Io ricordo che l'amministrazione precedente aveva fatto propria una mozione presentata nel sottoscritto, per cui con un sistema coordinato ed integrato di controlli incrociati si poteva anche introdurre finalmente l'utilizzo dei piloni che si alzavano in modo elettronico, per cui chi era in possesso del permesso poteva entrare, facendo abbassare il pilone, chi non era in permesso poteva aspettare quanto voleva, che non sarebbe mai entrato nella zona traffico limitato. È un messaggio politico che vogliamo lanciare o no? Oppure dobbiamo continuare ad andare avanti in questo modo? E riguardo, un altro messaggio politico, riguardo ai mendicanti organizzati, che non hanno niente a che vedere con i poverelli, perché i pordenonesi la loro solidarietà la fanno in silenzio, come è giusto che venga fatta, facendo le proprie donazioni, dando i propri abiti usati nei rispettivi contenitori, facendo l'elemosina come loro meglio credono, ma quando ci troviamo durante i giorni di mercato, una città che è popolata da persone che si mettono in periodo natalizio, poi c'era la banda di dieci persone che suonavano i violini zigani, che sembrava ci fosse il festival internazionale dei violini zigani in città, poi ci troviamo quelli che vendono i libri, poi ci sono quelli che vendono i fiori, ci sono le signore che arrivano con i cesti di fiori sotto mano e ti vendono il fiorellino, poi ci sono i mendicanti veri e propri che ti chiedono l'elemosina in corso Vittorio Emanuele, in corso Garibaldi, all'uscita di tutti i supermercati, ecco allora che questa non è più una solidarietà a chi è povero, ma essere fregati da coloro i quali sono mendicanti organizzati, arrivano in città con veri e propri autobus, si fanno scaricare davanti al centro storico, si fanno scaricare davanti al supermercato, si fanno scaricare al parcheggio Malcolin e vanno in giro per le città a chiedere l'elemosina anche in modo abbastanza fastidioso ai cittadini pordenonesi. Ecco allora che da un lato discipliniamo in modo viscerale e profondo tutta la normativa per coloro i quali devono svolgere l'attività ambulante in centro pordenone e poi invece non si interviene assolutamente nei confronti di coloro i quali stanno popolando pordenone di persone che chiedono l'elemosina ma che in realtà non è l'elemosina ma è un modo di vivere quotidiano da parte di un determinato tipo di persone che come è stato dimostrato non sono nient'altro che racket organizzato. Ecco allora che anche qua chiediamo un segnale politico per dire noi a Pordenone queste persone le vogliamo perché noi la solidarietà le facciamo nei confronti delle persone bisognose, sosteniamo le associazioni che aiutano chi è povero, abbiamo come amministrazione comunale degli strumenti a disposizione di coloro i quali dimostrano di essere effettivamente poveri e hanno necessità e hanno bisogno di un intervento da parte dell'amministrazione ma di persone che della questua fanno della loro professione e svolgono un racket organizzato non abbiamo bisogno. Quindi anche qua un messaggio politico. Invece tutto questo non abbiamo visto. Grazie consigliere. Consigliere Piccin, prego. Grazie presidente. Alcune brevi considerazioni e un punto in particolare in quanto buona parte degli argomenti e degli interventi che hanno preceduto il mio sono condivisibili. Ma allora io non ho avuto modo di partecipare alla commissione e comunque ho cercato di leggere questo documento e ho seguito un po' la spiegazione dell'assessore. È sicuramente un regolamento come tale, un atto burocratico fatto sicuramente secondo tutti quelli che sono gli elementi necessari e seguendo le normative di riferimento. Questa è una materia, quella del commercio, in questo caso parliamo di commercio sulle aree pubbliche, sicuramente è una materia delicata della quale si è già parlato in Consiglio Comunale nella precedente legislatura. Non mi meraviglio del fatto che ci sia una linea di continuità rispetto a ciò che a suo tempo l'assessore mio aveva portato all'ordine del giorno di questo Consiglio, la rivisitazione del mercato, sembrava che dovesse cascare il mondo, non è cascato. Io sento ancora però che la gente di questo aspetto, così come ricordava giustamente il consigliere Collega Pedicini prima, ancora si lamenta della difficoltà di poter comparare le merci. Comunque, al di là di questi aspetti che esulano un po' da quello che è l'aspetto burocratico, io devo dire la verità, noi questo regolamento non lo voteremo, ma non perché non vada bene, ma perché fa riferimento al recepimento di alcune norme sulle quali siamo sempre stati e continuiamo ad essere contrari facendo riferimento alla Bolkestan in particolare, io ne sono stata anche relatrice in Consiglio regionale, abbiamo votato contro a questo aspetto perché riteniamo che la eccessiva liberalizzazione, seppur imposta dall'Europa, seppur, 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 non sia, non vada nella direzione giusta per quanto riguarda la nostra piccola, anzi piccolissima regione e ancor meno per quanto riguarda la nostra piccola realtà cittadina, il nostro comune di 52 mila abitanti. Inutile dire qui e ricordare quelli che sono state le nostre posizioni da sempre sul grande commercio, va dato atto all'amministrazione poi che lungo la strada il tentativo attraverso progetti che ancora non sono entrati nel vivo e le richieste di valorizzazione della città con la speranza, vedi Pisus, con la speranza che poi vadano in qualche modo ad aiutare anche il commercio ci siano state, fermo restando che insomma la dico delle banalità quando dico che questa è una delle città come la nostra e molte altre che pagano caro il conto di quella che è stata la grande distribuzione, che non dico non debba esserci ma che nel nostro caso sicuramente non ha avuto un controllo preciso e specifico o meglio una linea di pensiero futura che fosse almeno in grado di capire che insomma il bacino di utenza è sempre lo stesso e che se abbiamo deciso di fare cassa con gli oneri di urbanizzazione precedentemente sicuramente adesso a farne le spese sarà il tessuto sociale della nostra città. Tant'è sono scelte fatte sulle quali si fa fatica a tornare indietro. Ci sono alcune possibilità sulle quali la regione avrebbe potuto intervenire in questi temi facendo prevalere la disciplina urbanistica su quella commerciale così come stabiliscono anche sentenze recenti 2012 del Consiglio di Stato. C'eravamo noi alla maggioranza non è stato fatto per cui è una posizione condivisa da una parte del centrodestra vedi PDL per arrivare al centrosinistra PD compreso quindi la responsabilità gli unici e bipartisan grazie Francesco. Gli emendamenti erano qui sono stati bocciati quindi un po' di colpa ce l'abbiamo tutti quanti. Gli unici a votare siamo stati noi. Per entrare nel dettaglio del regolamento io faccio riferimento ad un articolo in particolare che è l'articolo 31 e mi permetto di attirare l'attenzione sulla questione relativa alle sanzioni perché al comma 1 si legge che ai sensi della legge e non non è specificato perdonatemi non ho verificato se è nazionale se è regionale che cos'è non lo so comunque qua c'è scritto ai sensi di legge è punito con una sanzione amministrativa da 2005 a 15.000 e con la confisca delle attrezzature della merce chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche e dice senza la prescritta autorizzazione uscia e va bene senza la prescritta autorizzazione o fuori dall'area prevista dalla stessa. Allora secondo me qui c'è un'incongruenza perché un conto è essere senza l'autorizzazione se questo viene riportato dalla normativa nazionale e noi lo ricopiamo e basta da quella regionale per carità però guardate il fatto che io abbia l'autorizzazione e che mi sposti leggermente fuori da quello che è il mio perimetro non può essere sanzionato come se io non avessi l'autorizzazione to court tant'è che poi sotto in una norma tra virgolette residuale si dice oltre a ogni altra violazione delle disposizioni è prevista con una sanzione amministrativa da 500 e 3.000 euro. Allora siccome qui da noi la legge regionale se ricordo bene impone di norma per le sanzioni amministrative il doppio del minimo significa che se io aggiungo il banchetto mi sposto un po' più fuori dalla mia area oppure non so la tenda prendo 5.000 euro di multa con la confisca delle attrezzature della merce. Sì attenzione su questo aspetto non vorrei che fosse eccessivo e non fosse calibrato nel modo giusto. Giusto dare la sanzione a chi è senza autorizzazione e a chi è diverso è che si violi un qualche cosa per cui già si ha l'autorizzazione. Quindi un ultimo aspetto che voglio sottolineare e che ha giustamente evidenziato e sta nel testo della delibera giustamente evidenziato la circoscrizione sud. Io ricordo e l'ha già detto qualche altro collega però qui perdonatemi lo ripeto che il fatto dei mercati rionali era stato qui discusso e in particolar modo mi sembrava di aver capito che per la zona sud ovvero Valenoncello ci fosse una effettiva possibilità di partire con questo. Allora io vorrei capire se l'amministrazione ha la possibilità, stante le difficoltà naturalmente che ci sono dal punto di vista del commercio, se ha la possibilità di intervenire e fare da soggetto facilitatore in questi termini o seppure invece le circoscrizioni continuano a chiedere queste cose e noi gli dobbiamo dire semplicemente guardate no, non si può perché non c'è interesse, non riusciamo a fare squadra con i commercianti, con gli ambulanti e così via. Grazie Presidente. Grazie Cosepici. Non vedo nessun altro iscritto. Passiamo pertanto al secondo intervento. nessuno iscritto, dichiaro chiusa la discussione, do la parola all'amministrazione. Prego, Assessore. Allora, devo dire in termini generali, questo regolamento è stato effatizzato perché c'è la scadenza degli alpini. Questo regolamento era già in itinere già da prima e intende essere un regolamento che, come ho detto all'inizio, introduce tutta una serie di normative e possa dare tutta una serie di risposte per quanto riguarda la regolamentazione dei mercati qua in città. Punto. Poi, è ovvio che in questa occasione anche gli aspetti relativi alla dunata hanno sicuramente qualche articolo è stato soprattutto proprio sul tema delle sanzioni, che è uno dei temi appena citati dove ci troveremo che in città piomberanno addosso dappertutto per poter ovviamente partecipare a questa attività economica e su cui appunto stiamo predisponendo un un bando articolato proprio per far sì che possiamo valorizzare quelle che sono le nostre peculiarità del nostro territorio e anche un sistema di controlli in modo tale da poter almeno non dico garantire comunque ridurre l'impatto soprattutto nelle aree centrali. Detto questo mi riferisco all'intervento del consigliere Martino la necessità di valorizzare alcune aree in particolare Piazzetta del Portello Piazza 4 Novembre il Ponte di Adamo e Deva per quanto riguarda quest'ultimo credo che da parte dell'amministrazione veda con particolare interesse le iniziative che attualmente vengono svolte e ha intenzione anche di incentivarli da parte della Proloco della Propordenone soprattutto sul tema del noncello e di quell'area così pure va di pari passo anche la possibilità di valorizzare altre aree una prova ne sarà proprio la la donata alpina che prevede proprio specificatamente un rilancio e una cercare di rivitalizzare soprattutto queste aree per quanto riguarda il problema delle associazioni che fanno i mercatini sia ben chiaro che non esiste un cioè queste iniziative non sono equiparate alle altre tra l'altro voglio dire non ci saranno quegli obblighi previsti nelle scia la scia di fatto è un'autocertificazione come diceva lo stesso consigliere Pedicini nulla di più è chiaro che quello che viene organizzato da parte delle associazioni avranno un sistema anche di tutela per chi organizza che ovviamente ha seguito in base a quelli che sono le parametri e le norme di legge che diversamente non ci sarebbe poi è chiaro che determinati documenti non occorre che vengano fatte in tutte le manifestazioni ma possono essere fatte una volta all'anno nella programmazione e quindi mettiamo diciamo così secondo la normativa di legge in condizioni che si organizza sia chi ha diciamo così il controllo e l'amministrazione di avere dei documenti che sono perfettamente in regola ripeto non hanno gli stessi obblighi di altre attività non so di esporre prezzi e tante altre cose che invece sono previsti si citava i mercatini di Natale i mercatini di Natale hanno presentato anche quest'anno una regolare scia per cui non vedo le motivazioni si è parlato molto del mercato cittadino ricordo che è stato già oggetto di discussioni su interrogazioni già fatto in precedenza e ripeto il mercato cittadino è stato strutturato ha avuto sicuramente uno sconvolgimento per quanto riguarda le abitudini dell'utenza devo dire che però dopo diversi anni quelle che sono state inizialmente diciamo così le lamentele da parte dei cittadini che non potevano confrontare il prezzo con il tempo ci si è abituati per cui le persone le massaie sanno benissimo dove andare dove vedere sia per quanto riguarda i prezzi a quale bancarelle riferirsi ad ogni modo devo anche ricordare che l'assegnazione di quel bando ha una valenza fino a quella concessione scadere nel 2018 e prima di tale data lo ho già detto e lo ripeto anche oggi non potremo andarlo a cambiare se ciò ne fossi bisogno quindi ritengo che comunque questo non significa che il mercato deve rimanere cristallizzato io credo che il mercato vada rilanciato e proprio l'articolato di questo regolamento prevede più flessibilità e possibilità di indirizzo dell'amministrazione per andarlo a cercare di migliorare sia per quanto riguarda le tipologie merceologiche sia per quanto riguarda le caratteristiche della qualità cosa che diversamente poteva esserci alcuni ostacoli rispetto al precedente regolamento la stessa cosa dicasi per i mercati l'introduzione dei mercati sperimentali ci mette in condizione di poter sperimentare i mercatini di quartiere cosa che a suo tempo la precedente amministrazione aveva impostato e che questa amministrazione sia posta ricordo che il sottoscritto si è subito attivato in questa direzione però ricordiamoci che dall'altra parte ci sono gli operatori commerciali che sono disponibili a venire su sperimentazione non certo perché c'è un bando da fare e dopo c'è un'assegnazione e ci sono dei vincoli o cose di questo genere quindi più flessibilità riusciamo ovviamente sperimentare questo è un concetto fondamentale che ci dà più mani liberi e quindi andiamo in quella direzione per quanto riguarda l'intervento del consigliere del Ben l'emendamento che ha proposto nulla osta di poterlo raccogliere però potremmo un attimo semplificarlo soprattutto sulla parte terminale ecco dove possiamo dire che per motivi di salute o assimilati con certificazione sanitaria o autocertificazione riferendosi soprattutto alla legge 104 e a tutti gli altri permessi della legge io articolato in questo modo poi lo scriveremo meglio potrebbe essere accolto il DURC consigliere Loperfido io stesso ho detto che sulla materia l'ho approfondita proprio perché c'è la sensibilità però chiaramente in un regolamento io in questo momento non posso pretendere che uno mi metta la certificazione del DURC posso fare i controlli posso segnalarli a chi di dovere come a quella circolare regionale di cui lei prima ha letto e rimane comunque inteso che questo regolamento non è può essere in qualsiasi momento riportato in consiglio e anche integrato quindi se la regione in materia rivedrà questa darà questi indirizzi saremo i primi sicuramente che introdurremo questo argomento ecco questo per dirlo è una circolare che ha dato così di un funzionario ecco per quanto riguarda il traffico limitato durante il mercato devo dire che la polizia municipale su indicazione ha fatto sia dei monitoraggi e sta facendo dei controlli proprio per cercare soprattutto non solo per i controlli che vanno fatti per quanto riguarda la zona traffico limitato ma anche in occasione dei mercati proprio per ridurre quello che può essere l'impatto certo è che comunque ci sono un certo numero di permessi che sono legati soprattutto alle attività economiche che si svolgono lungo Corso Vittorio Emanuele e lungo Corso Garibaldi e che incidono nelle giornate di mercoledì e di sabato e quindi la possibilità di una chiusura completa del mercato come è articolato in città di Pordenone visto che il mercato non ce l'abbiamo non abbiamo la possibilità di inserirlo in luoghi dove poter interdire assolutamente il traffico chiaramente questo passa attraverso un controllo sistematico che comunque viene continuamente monitorato da parte dei nostri vigili stessa cosa dicasi per i mendicanti sono state fatte diverse azioni di allontanamento concordo e questa è un'operazione che viene continuamente monitorata oserei dire ogni 15-20 giorni abbiamo visto un intensificarsi durante le feste poi abbiamo visto subito dopo una riduzione noi adesso stiamo controllando quello che succederà perché abbiamo un sistema ciclico proprio di gente che viene da fuori oltre a quelli tradizionali del luogo e quindi sotto questo profilo c'è tutto un sistema tanto è vero quando spariscono non spariscono così ma perché c'è un controllo abbastanza consistente su questa situazione ecco per passare alla consigliera Piccin contraria alle liberalizzazioni ci sono le norme di legge noi abbiamo le dobbiamo applicare nello specifico cerchiamo anche in qualche modo di difenderci tipo ad esempio quella di individuare un'area sulla quale non possono anche perché attraverso le pieghe della stessa legge le condizioni di carattere ambientale di carattere storico di carattere paesaggistico ci consentono e quindi questo regolamento va proprio in quella direzione ecco e quindi con questa operazione cerchiamo un attimo un po' di arginare quello che potrebbe essere il fenomeno indistinto che attualmente tutti possono entrare sulle sanzioni le ho già risposto prima credo che il problema riguarda soprattutto anche per è chiaro che ci sarà una modulazione secondo i gradi ma indubbiamente ci devono essere in alcuni casi soprattutto quelli che non hanno le documentazioni a posto o che vanno a occupare spazi dove non dovuti i mercati rionali le ho già dato la risposta anche per quanto riguarda in generale i mercati compresa la zona sud per quanto riguarda l'emendamento lo leggo dopo adesso no l'emendamento dovrebbe leggerlo adesso nel testo definitivo allora per quanto riguarda l'emendamento proposto dal consigliere del ben che può essere accolto però con questa modifica che adesso propongo il periodo di assenza i periodi di assenza motivati da infortunio malattia gravidanza per perio e assistenza al figlio malato di età inferiore ai tre anni l'assistenza ai familiari riconosciuti in condizioni di handicap grave ex articolo 3 comma 3 legge 104 92 trattamenti riabilitativi o ferie non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione sempre che siano debitamente giustificati con le seguenti modalità per motivi di salute o assimiliati con certificazione sanitaria o autocertificazione per permessi di cui alla legge 104 del 92 o altri permessi per assistenza dei figli poi ferie comunicazione scritta almeno 5 giorni prima e nella misura massima di 12 assenze l'anno ecco così articolato intendiamo accoglierlo e poi scusate un attimo e poi vengono modificati all'articolo 21 il comma il comma 8 diventa comma 7 e il comma 8 diventa e il comma 9 diventa comma 8 ecco con questa precisazione si tenga a lato terminato assessore si bene allora l'emendamento è stato accolto va a emendare il comma 6 come è stato illustrato e va a modificare la decisura dei commi del comma 8 diventa comma 7 e il comma 9 diventa comma 8 sempre dell'articolo 21 chiedo al consigliere del ben se ritiene di rinunciare al suo emendamento iniziale cioè in definitiva non chiedere aderisce bene grazie prego prego sessore per quanto riguarda poi all'articolo 31 c'è un'erata corrige che ovviamente l'ammetto che l'ultimo comma che è indicato col numero 8 è in realtà il numero 7 bisogna cambiare funzionario forse va bene bene nient'altro assessore ha concluso grazie bene passiamo ora alle dichiarazioni di voto nessuno è iscritto alla dichiarazione di voto pertanto dichiaro chiuso le dichiarazioni di voto bene passiamo pertanto all'operazione di voto pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 2 2014 approvazione regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dichiaro aperte le operazioni di voto scusate scusate così come emendata dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione seguente presenti 36 votanti 36 maggioranza 21 favorevoli 26 contrari 3 astenuti 7 la deliberazione è stata approvata pongo ora ai voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto esito votazione seguente presenti 36 votanti 36 maggioranza 19 favorevoli 26 contrari 3 astenuti 7 l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile bene come da programma passiamo ora alle mozioni vi ricordo i tempi di intervento sono quelli che sono stati decisi in sede di conferenza capigruppo pertanto la mozione numero 6 sostegno economico del comune al cro do la parola al proponente consigliere Francesco Giannelli prego consigliere per dieci minuti di esposizione grazie questa è una mozione ovviamente vecchia però che torna di attualità presidente nella misura in cui da poco abbiamo parlato abbiamo parlato da poco ci stiamo interessando in ordine al nuovo ospedale di Pordenone io dirò poche parole perché l'argomento è di facile intuizione il cro di aviano non è un fatto è un fatto sicuramente nazionale forse internazionale regionale però ha una forte specificità cittadina pordenonese nella misura in cui si interfaccia in modo creativo professionale con l'ospedale di Pordenone io posso fare esperienze personali ma faccio per dire un primario come il dottor Barzan è in enorme sinergia con il cro io ho questa esperienza ma ce ne sono altre di specialità quindi non riesco a vedere il cro pur avendo come ho detto il suo peso a livello nazionale regionale slegato da tutte le energie che noi dobbiamo avere nel settore sanitario e quindi quando parliamo del nuovo ospedale di Pordenone dobbiamo per me sinergicamente quasi fisicamente parlare del cro non mi risulta che esista un piano oncologico regionale per cui onestamente non so chi comanda oggi in regione ma anche prima chi comandava che cosa abbia in testa per il cro non so che se esiste un piano del personale so alcune cose so che il dei ospedali ad esempio deve essere assolutamente ampliato così come so che esistono degli sbilanciamenti per quanto attiene le professionalità capire quindi che cosa si vuole fare per il cro è una azione mirata sono quegli elementi che il comune di Pordenone dovrebbe portare al centro della sua attenzione allora io quella volta siccome era uscito un articolo diciamo che si sapeva che il cro aveva dei grossi problemi di bilancio io ricordo che era era uscita la necessità di maggiorare le tariffe per per i ricoveri delle prestazioni ambulatoriali in modo da poter sostenere quello diciamo quello che era un po' un un depauperamento delle risorse che il cro doveva avere e quella volta avevo detto che sembrava impensabile non destinare una risorsa al cro io ho parlato di due milioni di euro che se dividiamo per i cittadini pordenonesi due milioni diviso cinquantamila persone quanto fa scusa tu che hai in sé veloce c'è qualcuno che ha una calcolatrice 40 euro in un anno 40 diviso 12 cosa fa al mese è diviso 30 giorni quindi voglio dire che ecco vi rendete conto che se noi abbiamo a cuore l'ospedale di Pordenone dobbiamo avere a cuore il cro di Aviano e se il comune si impegna con un esborso finanziario per il cro di Pordenone per il cro di Aviano non fa altro che sostenere la sanità della sua città e anche della sua provincia in comune abbiamo abbiamo il consegnele franchin che è un'emergenza del cro e quindi chi meglio di lui potrà dire di che cosa c'è bisogno credo che a distanza di un anno oggi i due oggi i problemi siano ancora più gravi di quella volta quindi mi rendo anche conto che in situazioni di come si dice di difficoltà che abbiamo economiche può sembrare una follia però vi ho appena detto che questa somma che io ho chiesto comunque un aiuto mi pare imprescindibile se abbiamo a cuore la sanità e i servizi della sanità alla nostra città al nostro territorio ma soprattutto abbiamo a cuore il prestigio che in tutta Italia dico in tutta Italia perché in regione è riconosciuto il cro di scuote quindi esorto un impegno a questo proposito per ora mi faccio grazie consigliere bene vedo iscritto il consigliere franchini prego consigliere franchini grazie grazie signor presidente grazie signor sindaco allora il tema che il consigliere Giannelli ha posto due anni fa scusa non ho no non ho capito ho capito perché si è acceso io no sì scusate no perché stavo guardando l'altra mozione no devo dare la parola all'amministrazione che deve deve replicare inserire mozione e poi inizia il dibattito grazie vi do prima di dare la parola ai consiglieri per la discussione la faremo in replica tanto vi do subito immediatamente la parola allora la la capiamo benissimo la sensibilità e il desiderio del proponente di riconoscere il ruolo fondamentale che il crodi aviano ha in sé e con dei valori che non sono soltanto locali ma vanno a livello non solo regionale ma nazionale e internazionale però per un'amministrazione comunale purtroppo non c'è la competenza per questo l'amministrazione comunale se dovesse eventualmente pensare a dei riconoscimenti ognuno sarebbe un portatore di interesse per tutte le parti della sanità presenti nel territorio comunale allo stesso voglio ricordare che se il cro è un livello di eccellenza per la sanità oncologica l'ospedale Santa Maria degli Angeli è altrettanto un livello di eccellenza per la città di Pordenone ha delle specialità altissime e ci sono altre realtà della sanità alle quali il comune di Pordenone deve comunque riferirsi per l'apporto professionale che danno nel comune e nella provincia ricordiamo anche la casa di cura da San Giorgio e non da ultimo ricordiamo anche i grandi valori che la medicina del territorio apporta perché una grossa fetta della popolazione anziana ormai viene nelle sue malattie croniche curata a domicilio per noi come amministrazione recepiamo benissimo lo stimolo creato dal consigliere Giannelli ma non è di nostra competenza e quindi noi non possiamo accettarlo come dice la mozione se invece vogliamo sostenere se questo è un invito a sostenere fortemente il ruolo professionale che il CRO ha all'interno del nostro territorio per poterlo mantenere per poterlo considerare sempre più un punto di riferimento per l'oncologia mondiale questo va bene questo a noi ci interessa noi non soltanto oggi lo sosteniamo ma l'abbiamo anche sostenuto in passato stiamo attenti però attenzione che io non vorrei che il CRO diventasse l'oncologia di Pordenone e il cittadino di Pordenone che va a curarsi in un istituto di oncologia europeo mondiale è diverso il concetto dobbiamo proprio stare attenti che non divenga questo per noi altrettanto importante però ripeto sono le altre realtà le altre realtà sanitarie che con pari dignità del CRO anche se fanno una semplice assistenza domiciliare devono essere riconosciute e ringraziate se potessi avere se potessi avere otto milioni e il sindaco fosse d'accordo gliele darei volentieri due al CRO due a Santa Maria degli Angeli due alla Casa di Cura San Giorgio e due all'assistenza territoriale e ogni c'è questa ecco con questi con con adesso ho detto questa posizione dal punto di vista amministrativo vi ridò la palla e giochiamoci questa ars dialettica prego grazie sessore consigliere franchin prego riprendo la parola scusa per l'interruzione di prima allora io innanzitutto ringrazio il consigliere Giannelli perché la sua mozione era datata due anni fa e in un contesto assolutamente diverso però secondo me anche a due anni di distanza ci sono tre punti fondamentali che secondo me vale la pena sottolineare il primo punto è che questa mozione ci fa pensare o ci fa riflettere sul fatto che la salute dell'individuo rappresenta un patrimonio per la nostra collettività cioè il concetto è basilare secondo me cioè noi riteniamo che ogni individuo che viene curato è una risorsa per la nostra collettività la seconda è che quello che dice appunto il consigliere Giannelli è che riconosce per questo devo un po' sottolineare questa cosa riconosce il fatto che i sistemi sanitari pubblici basati sul diritto universale della tutela della salute sono ancora il riferimento per la nostra popolazione e cioè sono i sistemi non perché lo dico io ma perché è uscito da poco un lavoro sull'anset in cui si dimostra che la salute pubblica è tutelata dai sistemi pubblici e quindi questo è il secondo punto quindi riconosciamo che l'individuo ha un bene in sé che la sanità pubblica è ancora il nostro bene di riferimento e terza cosa che questo territorio riconosce di avere un'eccellenza non è l'unica chiaramente ma è un'eccellenza e cioè i nostri concittadini non devono farsi 300 500 600 km per essere curati per malattie gravi ma devono farle 30 27 25 e questa è una di queste secondo me grossissime occasioni di qualità di vita che il cro offre alla città allora detto questo io penso però che il cro debba auto mantenersi non so come dire devo giustificare la sua la sua esistenza creando salute e cioè spostando quella curva di sopravvivenza che se è uguale a come era prima che ci fosse il cro non ha significato che il cro ci sia questo è l'unico parametro di valutazione se noi spostiamo la curva di sopravvivenza la qualità di vita sono tutte cose interessantissime ma noi come professionisti dobbiamo spostare la curva di sopravvivenza e questo è l'unico parametro in cui valutare il cro ma non ci non spenderà certamente il comune di Pordenone il consiglio comunale a fare questo ma il consiglio comunale però ha forse interesse e necessità di capire qual è il fenomeno sociale che c'è dietro l'oncologia e il cancro allora tanto per riportare quattro numeri perché se no non capiamo di cosa stiamo parlando in Italia ci sono circa 365 mila casi di tumore nuovi all'anno cioè mille al giorno e la nostra regione ne segnala 22 di media quindi 22 casi in una regione di un milione di abitanti poco più è un dato che è socialmente rilevante ma oltre a essere la causa principale di morte per gli adulti e quindi socialmente come impatto sociale rilevante ricordiamo che ci sono in Italia circa 4% di persone che girano per le strade che sono state affette da tumore e di questi quasi 3% poco meno 2-7% sono guarite sono guarite però hanno necessità di di terapia che non è una terapia solo fisica è una terapia di riabilitazione sia fisica sia sociale cioè quello che un ente pubblico deve fare è secondo me affrontare questo problema del costo sociale della malattia allora la malattia cancro in Italia costa grosso modo per persona circa 35.000 euro all'anno dei pazienti ammalati ovviamente e di questi di questi 35.000 se noi li sommiamo tutto cioè se noi facciamo la somma di quanto costa un paziente e quali sono i pazienti ammalati andiamo a fare una cifra che si avvicina intorno al punto di pil quindi da un punto di vista di impatto socio di gestione sociale la rilevanza del problema è fondamentale quindi il problema è grande secondo me interessa le amministrazioni locali comunali perché di fatto implica un costo sociale e il costo sociale si trasforma in 4 milioni di persone che seguono pazienti ammalati di cancro sono i familiari e giornate di parete di lavoro di trasporto di associazioni che si muovono intorno a questa malattia questo è il quadro secondo me questo è il quadro su cui dobbiamo ragionare come consiglio comunale che questa malattia è una malattia che ha una grande rilevanza medica ma una grandissima rilevanza sociale rilevanza sociale ripeto perché i pazienti che guariscono sono circa il 2.7 dei 4% che si ammalano quindi intorno al 70% in questo momento le nostre sono le nostre curve le nostre caristiche di questo territorio hanno bisogno di terapie di riabilitazione che non sono solo la fisioterapia sono riabilitazione all'inserimento sociale e questo è quello che io chiederei al nostro comune che si dia da fare che applichi che metti in atto pratiche attraverso le quali ci sia un supporto sociale il supporto sociale passa anche attraverso cose come diceva il nostro assessore anche attraverso cose ovviamente mediche e cioè in questo momento abbiamo che il 30% dei nostri pazienti muoiono in strutture per acuti cioè un dato assolutamente non non accettabile no? quindi non abbiamo le strutture adatte da cogliere i pazienti terminali che avevano bisogno di assistenza molto più banale no? prima cosa quindi assolutamente agire su questo assolutamente agire sulle reti oncologiche non certo per stabilire qual è il piano sanitario oncologico regionale che non spetta a noi contendiamo un contributo come consiglio comunale ma attraverso per esempio il supporto alle reti di pazienti di autoaiuto le reti di autoaiuto dei pazienti e cioè le associazioni di pazienti che si offrono al territorio per supportare questi pazienti punto fondamentale già toccato dal nostro assessore è la continuità di cura no? cioè stabilire che un paziente che viene dimesso da una situazione per acuti abbia la possibilità di essere seguito a casa e cioè il territorio questo è su queste cose noi dobbiamo basare e dobbiamo richiedere l'intervento del comune cioè dell'ente locale insomma no? perché su queste cose si stabilisce la qualità di vita che abbiamo questi cittadini dando per scontato che il CRO è il grado di assicurare un'alta secondo me prestazione di cura in termini specifici in termini acuti e tutto il resto su cui dobbiamo intervenire come ente che rappresenta il cittadino insomma e quindi la continuità di cura è le insomma i sette minuti sarebbero stati cinque minuti ah scura ho finito però l'accordo era quello che io non avrei potuto interrompere però un rispetto no no ho finito ho finito quindi le cure palliative e le reti le reti di 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 hospice e di terapia a domicilio ma le terapie palliative intendo no quindi tutto quello che in qualche modo tu hai accennato prima che secondo me è fondamentale che un comune si faccia carico avendo l'opportunità di avere un centro di alta specialità a pochi chilometri insomma e per ultimo appunto la riabilitazione alla vita perché questo è un problema grandissimo che ci troviamo a affrontare vi ripeto che due su tre i nostri pazienti sono guariti e hanno difficoltà molte volte all'inserimento e non c'è struttura che aiuti struttura pubblica che aiuti per cui su queste cose io citerei che la nostra assemblea riflettesse e prendesse un impegno ad essere presente nei momenti necessari per realizzare queste queste operazioni che sono di fondamentale importanza per i nostri cittadini grazie grazie consiglio l'operfido prego grazie presidente grazie al collega Giannelli e soprattutto grazie al collega Franchin alle cui parole mi ricollego sostenendo in pieno ovvero quello che il comune può fare è giusto che noi chiediamo al comune che venga fatto ovvero quanto nelle competenze del comune e quanto appena detto dal collega Franchin soprattutto in tema di hospice per coloro i quali hanno necessità di dover seguire il proprio caro e quindi comunque anche con attività di sostegno a favore dei familiari è una cosa che quella si rientra nelle competenze magari dell'amministrazione comunale e citerei assessore perché lei ha affrontato una questione con un passaggio citerei affinché magari anche per un maggior coinvolgimento da parte della nostra parte politica affinché magari potesse delucidare un attimino meglio cosa intendesse dire facciamo attenzione che il cro non diventi l'oncologia di Pordenone quindi citerei veramente a capire cosa intende lei cosa intende che si debba fare noi come amministrazione comunale di Pordenone per evitare che si arrivi a questo e se quanto detto da lei è un timore riscontrato veritiero o se magari era una frase così fuori dal sen fuggita grazie grazie consigliere consigliere Piccin prego grazie presidente beh difficile un po' parlare nel dettaglio di questa argomentazione in relazione poi a quello che è stato evidenziato dal collega Franchin che oltre ad aver detto cose di assoluto buon senso ne ha le competenze io merito a questa mozione devo dire devo stolineare alcuni aspetti io credo che questa sia una mozione e si vede fatta un po' in altri in altri tempi all'inizio del 2012 valuteremo non so se poi verrà modificato ho sentito l'assessore che ha detto non è di nostra competenza e lo capisco perfettamente avrei capito se la delibera dice se impegna la regione affinché stanzi ulteriori fondi per allora un dato solo ma non per dire per evidenziare inefficacia o inattività di questo centro che è sicuramente un centro di eccellenza e dobbiamo apro una parentesi difendere naturalmente con le unghie con i denti a livello regionale a livello nazionale a livello regionale perché sappiamo che in una situazione tale quella che è di contrazione di risorse non dobbiamo vederci ancora una volta come provincia di Pordenone sottrarre qualche cosa che invece è un'eccellenza io credo che non andrà così ne sono assolutamente convinta ma questo è il primo ruolo dicevo prima un dato su tutti sono dati credo a consuntivo del 2012 che ha riportato il nuovo assessore alla sanità la dottoressa Telesca dicendo e definendoli utili di azienda che non mi piacciono e che non sono tali ma saranno sicuramente risparmi o spese o cifre non utilizzate che per quanto riguarda il CRO equivalgono a 6 milioni di euro che il CRO ha dovuto restituire alla regione e l'ho già detto credo in quest'aula di questa restituzione io ho contestato le modalità di nuova ripartizione perché sono convinta che se c'è stato un problema durante il 2012 perché queste somme non sono state utilizzate credo che non sia giusto che vengano quelle del CRO quella dell'azienda ospedaliera di Pordenone quelle delle varie aziende rincamerate tutte dalla regione e suddivise di nuovo sul territorio su base di criteri che ha stabilito la regione che saranno sicuramente criteri come dire che questa maggioranza che l'assessore ha voluto tener conto ma ripeto fa sempre la differenza la consegna di soldi brutta parola a livello territoriale e io ci tenevo e ho presentato l'emendamento in assestamento di bilancio affinché quei soldi comunque rimanessero in dotazione per le attrezzature tecniche per quello che sarà allora per non farla tanto breve perché l'abbiamo abbiamo detto in capigruppo ma credo di intervenire solo io forse ecco troppo lunga scusi dico che avrei noi diciamo non so se ci sarà la volontà di modificare in questo senso e comunque diciamo che potremmo pensare ad una voto come dire favorevole per voler alzare l'attenzione a difesa di questa struttura nel nostro territorio se invece il testo rimane così quello che è non crediamo che il comune possa impegnarsi su questo fronte e quindi ci asterremo grazie presidente grazie consigliere consigliere Bonazza prego grazie presidente signor sindaco assessori colleghi consiglieri con questa mozione si apre l'occasione di fare alcune osservazioni sul cro e sull'elemento salute obiettivo al quale tutti devono concorrere sia il personale sanitario che alcuni di noi lavorano sia la politica che ne determina la traiettoria leggendo la mozione mi sono nate delle riflessioni provo a ripercorrerle l'esistenza del cro è legata al finanziamento del 5 per 1000 dice Giannelli ma dopo anche dei privati sono andato a vedere un bilancio mediamente del cro è di 86 milioni 47 vengono dalla regione 26 extra regione 9,5 dal ministero 4 entrate proprie cerco ancora il 5 per 1000 si arriva soltanto a 900 mila euro una voce molto piccola mentre i privati vanno a finire con i progetti dell'istituto superiore di sanità progetti europei AIRC AILE e altri solo su 4 milioni quindi la voce è molto piccola e vinco come si diceva prima che i comuni e le province che sono state chiamate in causa non partecipano a questi progetti di tema sanitario poi vado a vedere quello che si diceva prima il plus ma vado a vedere il bilancio 2010 utile di 2 milioni quindi ci tornano subito indietro i 2 milioni che noi diamo perché poi 2011 utile di 4 milioni 2012 4,7 di utile quindi sicuramente la regione ha fatto un altro ragionamento che non coinvolge le persone qui presenti la regione di prima comunque concordo con Giannelli sul fatto che le entrate che derivano dalla dimensione regionale e statale sono inevitabilmente destinate a diminuire l'abbiamo visto qua non c'è scampo altra cosa positiva si può dire che finalmente nel 2012 è nata la fondazione qui la citava nella mozione è una fondazione che è nata da un'industria però vedo il comitato scientifico è costituito direttamente dal direttore generale e dal direttore scientifico del CRO quindi l'indirizzo sicuramente è molto focalizzato alla struttura sanitaria la strada del CRO prima si parlava di piano oncologico Giannelli e svariati incontri mi ricordo accennavano sui giornali esperti sono stati chiamati nel 2011 nel 2012 e poi non se n'è fatto nulla ci sono capite le difficoltà in altre regioni ad esempio la Lombardia l'Emilia la Toscana il piano è andato avanti in regione ci sono altri reparti di oncologia dal punto di vista strategico sono utili o sono solo dei doppioni e in che relazione sono tra di loro e con il CRO in regione con il centro-destra non si è visto concretizzare una risposta in merito neanche abbozzata cioè hanno iniziato a pensarci hanno visto tutte le difficoltà tutto è andato a mare vediamo il piano oncologico regionale deve allora riconoscere al CRO un ruolo di perno dell'oncologia regionale ed è indispensabile creare una rete tra tutti gli attori del territorio che parlano di oncologia adesso vediamo gli impegni che si deve prendere il sindaco e a questo punto dico va bene perché il comune di Pordenone dovrebbe dare soldi soltanto al CRO riconosco l'intenzione dell'assessore che diceva bene a questo punto dobbiamo dare i soldi alle altre strutture ospedaliere all'ospedale al policlinico al territorio ma riconosco dopo tutto che il comune non si è mai risparmiato sul fronte sanitario ha sempre assecondato i desiderata della regione quindi se la regione diceva una cosa noi comune gli siamo sempre andati dietro nelle dichiarazioni del sindaco più volte è stato notevole è sempre stato importante l'impegno per fornire supporto per il nuovo ospedale altrettanto impegno c'è da parte del comune per la realizzazione del primo edificio della città della salute e qui mi chiedo quale disegno c'era da parte della regione guidata da tondo prima il consigliere franchin diceva più ospice più attenzione sul territorio perché questi qui escono dall'ambiente acuto vanno a casa con una terapia e devono essere seguiti devono essere riabilitati ma allora vado a vedere e dico bene Illy aveva stanziato 18 milioni per la cittadella della salute guardo 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 cosa ci troviamo sui giornali 10 milioni ma allora non è più una cittadella non si danno tutte queste risposte che il territorio ha bisogno è semplicemente una palazzina niente di più tanti servizi sono rimasti fuori e tanti servizi che servono aspettiamo che vengono valorizzati sto parlando di quello che abbiamo trovato riconosco che il ruolo principale su questa partita gioca la regione tra l'altro in campagna elettorale l'attuale presidente Deborah Seracchiani ha sottolineato che bisogna impegnarsi a potenziare ulteriormente gli scambi di formazione tra il Cro di Aviano e i principali istituti internazionali con cui già collabora questo qui l'ha detto e l'ha ripetuto anche nelle visite ufficiali l'eccellenza assoluta di una struttura in cui oltre la metà dei pazienti viene da fuori regione anche per soffrire di servizi di punta come quello di radioterapia per rimanere all'avanguardia nella ricerca è fondamentale incentivare lo scambio dei cervelli come dimostrano anche i risultati di riconoscimento di altissimi livelli silenzio concludo riconoscendo che questo risultato lo si deve anche alla qualità dell'offerta del personale infermieristico medico e dei tecnici che sono un capitale su cui continuare a investire grazie alla presenza di un ottimo centro di formazione che assicura la divulgazione delle buone pratiche sanitarie e le evidenze scientifiche invito il sindaco e la giunta a continuare a intervenire nei processi decisionali della salute e continuare nell'obiettivo che ci eravamo dati nel programma che è unito alla maggioranza tre righe in merito al ruolo del centro di riferimento oncologico di Aviano intendiamo difendere il suo ruolo nella sua funzione di offerta di salute nell'area vasta in regione e a livello nazionale solo in tale prospettiva che è di valorizzazione non certo di ridimensionamento è possibile attivare interventi di razionalizzazione della spesa continuare così grazie per l'attenzione grazie consigliere consigliere Freschi prego grazie presidente e grazie al consigliere Giannelli che ha portato a questo argomento l'attenzione del consiglio e nel dire grazie però devo anche dire che il documento così come è stato proposto non può essere oggetto del consiglio comunale per cui mi pare di cogliere pienamente quanto ribadiva l'assessore Romor riguardo al fatto che da questa mozione noi possiamo trarre uno spunto uno spunto importante cioè che il nostro ruolo è quello di sostenere la qualità professionale che il cro esprime non solo per questo territorio ma a livello regionale e a livello nazionale mi ritrovo pienamente nelle parole del consigliere franchin nelle sue elencazioni nei suoi tre punti che ha analiticamente presentato cioè che la salute è il patrimonio principale della collettività e la salute delle persone e il fatto che nel sistema pubblico possiamo trovare questo tipo di garanzia e che il cro è un'eccellenza per il territorio io penso che questi siano i tre punti su cui deve ruotare il nostro ragionamento e vorrei aggiungerne un altro a memoria di questo territorio proprio che il cro è stata un'istituzione fortemente voluta da questo territorio fortemente voluta perché chi si ricorda quanto è accaduto negli anni 70-80 riguardo al cro può ricordare questi passaggi che sono stati fondamentali pertanto il ruolo nostro è quello di essere un accompagnatore in qualche modo a questa struttura e anche alle altre strutture che lavorano nel nostro territorio nel campo della salute che è il bene forse più prezioso che noi abbiamo per cui io spero che questa mozione consigliere Giannelli venga in qualche modo non so se emendata riproposta rivista perché penso vada dato atto a lei di averla di avere in qualche modo sollevato questo tipo di problema questo tipo di attenzione vada dato atto che però non è compito del comune rispondere a quanto richiesto dalla mozione ma il compito del comune è quello di tenere alto lo spirito e il ruolo che questa valente istituzione ha per il nostro territorio e per i nostri cittadini e non solo perché dobbiamo ricordare che all'attere del CRO esistono altre strutture che stanno lavorando in maniera importante senza contributi pubblici anche che stanno dando un valente supporto a cittadini e a familiari di pazienti che arrivano da ogni parte d'Italia e che trovano in qualche modo sostegno comprensione conforto aiuto anche in queste strutture che sono poste fisicamente anche all'attere del CRO ma che stanno dando un servizio stanno dando una qualità di servizio che è veramente di alto di alto livello per chi penso abbia avuto purtroppo dico purtroppo perché la malattia è una malattia che molto spesso nonostante le cifre che ci ha dato il consigliere Franchin che sono ottimistiche molto spesso però dietro c'è anche il dramma per cui il compito dell'istituzione è camminare parallelamente a queste situazioni a questi problemi ed essere di sostegno ed essere di riconoscimento grazie grazie consigliere consigliere Giannelli prego allora l'intervento del consigliere Franchin no prima assessore mi permetta di dire una cosa lei ha fatto 4 per 2 8 giusto io con tutto il rispetto che ho per l'ospedale di Pordenone per il policlinico e per la rete della medicina di base del territorio scusi non si può fare 4 per 2 8 il cro parliamo di un'astronave che è arrivata e atterrata sulla terra quindi con tutto il rispetto lei non può dire se avessi 8 milioni ne darei 2 2 2 2 2 ci sono pesi e misure sempre diverse seconda cosa se io avessi scritto chiedo al municipio che dia 200 mila euro al cro lei cosa mi avrebbe risposto che non è di competenza del comune terza cosa quindi il messaggio è che ovviamente c'era una forte provocazione nell'importo però l'intervento del cuciniere franchin illuminante mi ha portato a emendare la mia mozione come vi leggo e poi troverete cioè tutto il dispositivo dell'impegno viene cambiato quindi fate salve le premesse e ampliate con quello che si potrà ascoltare dal dibattito e che è stato interessantissimo impegno il sindaco e la giunta e l'architetto a mettersi sui occhi se non leggo più un caso e lì la questione della malattia quello che diceva il dottor franchin guardate non è uno scherzo uno guarisce della malattia e quindi dell'organo e poi non sempre guarisce nella testa cioè è convinto che sia possibile fare così e lo fa però se ci pensa dice no io non so fare così non so più fare così la malattia si può guarire sotto il profilo fisico ma non sotto il profilo mentale e cioè a dire sono guarito sotto il profilo fisico psicologico sono guarito riuscirò ancora a avere rapporti con mia moglie voi credete sia uno scherzo ma quello che diceva franchini e allora anche 200 euro come segno intendiamo questo il comune quindi deve impegnarsi il sindaco e la giunta si impegna e di il testo è cambiato come segue ad esercitare nei luoghi più opportuni e con gli strumenti più idonei un'azione forte ed incisiva per realizzare uno la continuità di cura e prima Franchini l'ha esporto bene la rete delle cure palliative e la riabilitazione d'organo e di vita e questa è la cosa forse che in fondo io non avevo colto fino a stasera e quindi ringrazio il dottor Franchin perché me l'ha fatta cambiare però ha insegnato a tutti noi oltre ai numeri oltre alla causa principale di morte per le persone adulte eccetera ha insegnato che a volte ci si guarisce fisicamente ma non nella testa e questo il comune magari con 200 euro a sessore però dico deve impegnarsi a farlo e cioè non occorre dare soldi è importante fare delle azioni e quindi io lo emendo così e basta spero che sia un primo passo per un'operazione che deve vedere avere solo futuro e adesso ve lo porto sì grazie se mi consigliate il testo consigliere del Ben prego se non ho capito ma grazie si è stato un film se non ho capito ma il il consigliere Giannelli ha detto cancelliamo tutto quello che è la mozione e ci impegniamo affinché si parli per la rete cure palliative per la continuità delle cure e per e per la rete delle cure a questo punto io penso che l'assessore Romor possa dire lo facciamo proprio e finiamo tutto qua se è così no allora lo fanno proprio e va sentiamo cosa prego non vedo prego assessore Romor l'emendamento magari provo a leggerlo grazie non è che non mi fidi di lei ma perché lei vuole 200 euro da me grazie allora io voglio sottolineare una cosa importante che l'aveva chiesta l'aveva chiesta il consigliere lo perfido è già stato risposto dal consigliere Piccin e da una parte anche dal consigliere Bonazza l'istituto oncologico di ricerca e cura è una struttura ormai con una esperienza internazionale e risiede in uno strano punto geografico che ha voluto la storia con la chiusura dell'ospedale di San Zenone essere allocata lì ad Aviano e ricordiamoci che siamo tra due megastrutture oncologiche Padova e Udine che potrebbero essere fortemente interessate a ecco quello che voglio dire attenzione facciamo le nostre debite attenzione in modo di far mantenere e al cro di Aviano il ruolo di oncologia regionale non dovremo accettare nessuna riforma sanitaria che possa portare via il ruolo di oncologia regionale al cro di Aviano anche se è molto appetibile dalle altre strutture vicine questo è il concetto sul quale io volevo fare riferimento se noi perdiamo questa caratteristica di riferimento regionale diventerà l'oncologia di Pordenone capito questa è la cosa più importante per capire qual è la reale valore di questa struttura in realtà già parecchie cose sono state dette e il discorso è arrivato proprio dove io desideravo arrivasse la struttura che è una struttura di eccellenza e che vive in un'area vasta seppur piccola in un'area piccola come quella di Pordenone abbiamo un servizio sanitario che raggiunge delle eccellenze a moltissimi livelli per cui quasi la totalità dei cittadini della provincia di Pordenone possono essere curati nella provincia di Pordenone abbiamo delle eccellenze talmente elevate che soltanto in casi estremi dobbiamo uscire dalla nostra realtà vedi la cardiochirurgia e la neurochirurgia che non ce l'abbiamo perché è allocata in altra sede sul problema del della continuità delle cure sulla rete delle cure palliative io vi dico che l'amministrazione è da due anni che è attentissima a questo fenomeno soprattutto con due fenomeni due atteggiamenti importanti uno è la messa a disposizione da parte dell'ambito del tutti i suoi operatori domiciliari per intervenire in questi casi assieme agli operatori del distretto che intervengono nello stesso modo per quanto compete loro a livello domiciliare siamo in condizioni tali che voi sapete benissimo ormai i DRG i ricoveri durano pochi giorni non è più come una volta per cui l'ammalato viene dimesso rapidamente e deve autogestirsi il più possibile nel proprio domicilio non solo abbiamo in grande attenzione di aumentare le risposte per la domiciliarietà sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista sanitario ma abbiamo anche intenzione nella continuità delle cure da parte di questa amministrazione c'è l'attenzione di creare delle situazioni per poter ricoverare in strutture a bassa specialità ma ad alta assistenza coloro che non sono adeguati né nel ospedale per acuti né nel proprio domicilio le cure praticamente intermedite il ciclo delle cure palliative è già ad altissimo livello in questa realtà ci sono delle cure palliative purtroppo sono quelle cure che dobbiamo dare ma che non hanno come obiettivo finale la guarigione del paziente ma il sollievo della malattia mentre la malattia inesorabilmente fa il suo percorso e abbiamo in questa area sia a Pordenone e sia a Maniago e anche a San Vito delle strutture che si occupano specificamente di cure palliative per quanto riguarda la riabilitazione d'organo ci sono delle associazioni importantissime che vivono all'interno della nostra struttura e che dedicano la loro azione e la loro attività proprio per la riabilitazione d'organo e intervengono in maniera importante proprio per rieducare faccio un esempio soltanto quello di competenza del dottor Franchin i laringectomizzati per insegnare a parlare loro dopo che sono stati sottoposti all'intervento di asportazione della laringe ci sono tutte le associazioni per le donne che subiscono l'amputazione della mammelia la mastectomia ci sono molte associazioni che intervengono questo è compito del comune che deve tenere in rete queste associazioni e farle lavorare in funzione dell'obiettivo che si propongono ciò è esiste già non dico che c'è necessità di migliorarsi e di creare ulteriore associazioni e specializzazioni in questo campo sulla cittadella e con il secondo caso la cittadella della salute è l'altro argomento che questo comune questa amministrazione porta in campo per dare risposte di tipo associate tra sociale e sanitario per la continuità delle cure e quindi con il percorso che viene attuato dopo l'intervento Giannelli nella sua ultima intervento io voglio dire sì l'oncologia è importantissima e purtroppo quando si parla di oncologia ci nasce dentro di noi un pato su un interesse un'emozione una sensibilità particolare ma esistono delle altre terapie delle altre reparti che trattano altrettanto in maniera importante le problematiche voglio dire che le cause di morte sono maggiormente riferite alle malattie cardiovascolari abbiamo il problema dei trapianti che è un problema grandissimo abbiamo il problema delle neurochirurgie delle cardiochirurgie quindi ci sono molte altre situazioni oltre al tumore a cui dobbiamo rispondere per cui in maniera così simpatica le 200 euro io le darei il tavolino e la sedia le organizzerei io per potersi mettere in piazzetta Cavour e ricevere l'aiuto dei cittadini dei cittadini certo mi metterei io con lei non come amministrazione come comune ma io le darei questa possibilità mi sembra che l'emendamento fatto corrisponda quindi alla filosofia e alla mission che rispetto alla sanità e rispetto in particolare al problema oncologico questa amministrazione ha per cui signor sindaco io direi di fare proprio l'emendamento e lo facciamo proprio e ci attiveremo secondo quello che è stato scritto chiedo consigliere Giannelli chiedo se lei vuole che comunque venga votato credo proprio di no bene va bene grazie pertanto sono le ore 22.42 dichiaro non viene messo in votazione perché è stato fatto proprio dall'amministrazione se il consigliere Giannelli non chiede una votazione va bene sono le ore 22.43 dichiaro chiusi i lavori il consiglio verrà riconvocato ad omicidio come da regolamento grazie e buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti